Chi ha bisogno dei crediti formativi per gli obiettivi geologi deve lasciare i riferimenti perché noi non abbiamo messo una crocetta, quindi chi non l'ha fatto vuole una rargrincia per gli formativi, bisogna mettere il riferimento, l'ordine di geologi di appartenenza chi non l'ha fatto, altrimenti non ci passano i crediti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Buongiorno. Sì, sì, adesso lo prendiamo. Posso Stefania pericare la mia presentazione? Sì, 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 sì. Sì, sì. 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 Questa. Sì. No, è uno scherzo. Sì. Quindi parliamo qui. Sì. Per vedere eventualmente lo giriamo così. Grazie. 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 Grazie a tutti di essere venuti, di partecipare in queste giornate di Giorgia Storia. Oggi sarà una giornata molto piena, quindi passiamo subito la parola al direttore del servizio di Giorgia Storia. Grazie. 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 Buongiorno. Buongiorno. Apro con vero piacere questa terza giornata di Giorgia Storia che è stata organizzata appunto dalla dottoressa Misio e tutto lo staff di colleghi che curano questa importante paramica, diciamo, di studi e di ricerca che negli ultimi anni abbiamo voluto, diciamo, ecco, aprire insieme a tutte le altre discipline scientifiche che seguiamo. Ricordo, diciamo, alla platea che il Servizio Geologico d'Italia, la storia della Giorgia nasce nel 1973 e aveva come core business, diciamo, la produzione di cartografia geologica italiana. Poi nel tempo si è adattata, diciamo, alle esigenze della società e quindi ha ampliato tutti i campi di studio e di ricerca nelle matrici geologiche del territorio, acquisendo quindi esperienza anche su tanti altri settori scientifici. Però, come sapete, voi la geologia guarda ovviamente molto al passato, no? E quindi abbiamo voluto anche guardare al passato con un occhio anche da storici. quindi è nata, per il tramite appunto della dottoressa Nicio, in particolar modo, questa idea di ricollegare gli eventi anche storici con la geologia per trovare anche degli spunti molto interessanti sia al punto di vista scientifico che storico sull'evoluzione, no? Dell'ambiente sotto vari aspetti. Queste sei giornate che ne sono scaturite sono rappresentative di sei tematiche diverse, come avrete potuto vedere nella rocantina e oggi trattiamo un aspetto molto importante e diciamo anche attuale con quello delle cavità sotterranei nascoste oppure scomparsi sotto il flessuto urbano. Tra l'altro, ultimamente, no? c'è stata anche la lavorazione qui in area postero, quindi è una tematica di grande attualità. Io sono molto curioso di poter portare i saluti del servizio geologico e visto anche la tempistica ci sono tantissimi interventi, tutti meritevoli di attenzione, lascerei comunque subito la parola al professor Cancaterra dell'Università Federico II di Napoli per l'inizio, diciamo, della fase a testo preparato. Grazie, grazie. Ho bisogno di caricarla. Qual era la tua? Quattere la tua? Grazie. Grazie. Sì, sì. Ecco, non trovo questo. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono un intervento brevissimo, ringrazio i colleghi, gli amici dell'ISPRA, il direttore Campobasso, la dottoressa Anissio per avermi invitato. Toccherò un paio dei tanti possibili temi, aspetti che la giornata oggi stimola in termini di riflessione. Il direttore citava un episodio romano altrettanto importante, anche più probabilmente diffuso dai massimidi a quello che si è verificato a Catania. Anche in quel caso cavità in area urbana causata, provocata o condizionata, si vedrà, da scavi in sotterraneo. Quindi un argomento nel nostro paese è di attualità senza pause o senza momenti di minore attenzione. Il tema delle cavità sotterranee, soprattutto in zone urbane, ci pone di fronte a una dicotomia storica consolidata, soprattutto per le geologi che a vario titolo ci occupiamo di questo tema. Perché come i singoli, i collassi, i disprofondamenti, i voraggini che dir si voglia dimostrano, sono fonte di problemi per la comunità, ma per le stesse comunità sono talora fonte di benessere, allorché siano valorizzate per fini prevalentemente turistici. E in questo abbiamo una casistica ricchissima in giro per il mondo, quindi diverse... perdonatemi... Grazie. Grazie. Facciamo a esca? No, perché proviamo qua, perché sennò io non... Sì. Fai una cosa. Bene, bene, perfetto, perfetto. Non puoi dire, fai bene. Quindi, molte delle città più belle del mondo si freggiano di un paesaggio sotterraneo che da tempo è oggetto di interesse dal punto di vista turistico, ma anche da questo punto di vista l'Italia non è da meno. Oltre la sua varietà di sorgenti di pericolo geologico, molte delle nostre città, grandi, medie e piccole, offrono un sottosuolo quanto mai ricco di rinvenimenti archeologici e comunque di spazi solo in parte esplorati. E tra questi ovviamente la nostra capitale, ma anche l'ex capitale del Regno delle Sicilie, Napoli, in questo contesto ha sicuramente un ruolo importante. La rinascita dal punto di vista turistico della città di Napoli è legata anche ad un grosso boom favorito dai social dei vari segmenti, dei vari settori della cosiddetta Napoli sotterranea che sono ormai per tutto l'anno oggetto di flussi turistici fino a pochi anni fa impensabili. Dal punto di vista della ricerca, della professione, il primo obiettivo, il primo momento, allorché ci si pone di fronte al problema delle cavità, soprattutto per la valutazione della pericolosità connessa e quindi della possibile mitigazione dei rischi indotti, è quello della conoscenza. In questo senso sappiamo bene, tutta la comunità dei geologi italiani sa che l'ISPRA ha svolto e svolge un ruolo centrale e nell'ambito dell'ISPRA la dottoressa Nizio, dove non permette di definire la signora dei Dasing Call, ha avuto almeno negli ultimi vent'anni un ruolo importantissimo. L'ISPRA ha, non solo per la città di Roma, ma per l'intero paese, ha rappresentato un punto di riferimento, non solo organizzando eventi e manifestazioni come quello di Erno, ma soprattutto allestendo un database, che è uno strumento preziosissimo per tutti. E questo archivio è particolarmente dettagliato e quindi ancora più utile, soprattutto per la città di Roma, dove l'ISPRA ha portato avanti studi abbastanza evoluti, non solo legati al censimento, all'ubbligazione, ma anche alla valutazione della suscettibilità, tema questo di grande attualità nel mondo scientifico, non solo italiano, ma anche internazionale. Purtroppo questo livello di conoscenza, o meglio, di diffusione, di divulgazione, di condivisione, non può dirsi comune a tutto il territorio nazionale, o a quelle realtà che, come Roma, sono interessate in misura significativa da cavità. E devo purtroppo dire che questa è una critica, è un'osservazione critica che va fatta alla mia città, alle amministrazioni che nei decenni si sono sostenuiti. A Napoli al momento si conoscono 6-700 cavità, ma si è consapevoli che è una parte di un insieme, di un tutto ancora da scoprire. Ma queste 6-700 cavità sono note da alcuni decenni. Esistono archivi che mi permettono di definire privati, tenuto conto che sono stati allestiti da vari soggetti, istituzioni o no, ma che mai sono stati resi pienamente fruibili alla comunità. E pensate che si è cominciato a lavorare sistematicamente sul sottosuolo di Napoli nel 1997, allorché fu istituito uno dei primi commissariati in governo dedicati alle cosiddette emergenze sottosuolo. Stiamo parlando di un momento particolare per Napoli, un momento in cui si parlò di primavera legata a un certo sindaco, che in quegli anni aveva la responsabilità dell'amministrazione comunale, quindi un'iniziativa meritoria. Da allora la comunità scientifica napoletana non solo ha lavorato per arricchire questo database, ma è un database che il Comune di Napoli ha sistematicamente, con oggi, dal 1997 a oggi abbiamo vissuto quasi tutte le amministrazioni, quasi tutti i possibili colori, un archivio, un database che è rimasto sistematicamente e gelosamente costruito in cassetti, ma non in cassetti informatici, in cassetti classici, canonici. Per fortuna l'attenzione della mano pubblica sul tema sottosuolo, sul tema cavità, è abbastanza alto e lo è stato negli ultimi anni grazie ad un'iniziativa del Ministero dell'Ambiente, il MATM, che in due anni successivi, per effetto di una legge, peraltro molto criticata, perché a fronte di un titolo che vedete, di una denominazione che vedete qui riportata nel riquadro, è una legge che solo in minima parte ha dato benefici alla comunità tecnico-scientifica dei geologi, nel senso che a fronte di questa etichetta, ai bandi che il MATM ha emanato nel 2017, nel 2018, hanno partecipato ben altre competenze, oltre a quelle dei geologi, e i geologi hanno potuto, diciamo, accedere solo ad una minima parte di queste risorse, ma queste sono le stranezze della gestione della cosa pubblica nel nostro Paese. Ciò non di meno, sul tema del sottosuolo, c'era una linea, una linea che era finanziata dai due bandi, che è stata finanziata da due bandi, e che ha visto due gruppi di ricerca, due cordate, per così dire, a giudicarsi a altrettanti progetti. Ad una di queste cordate fanno capo sia il mio dipartimento, di cui mi onoro di essere da tre anni il direttore, e l'ISPRA, sotto il coordinamento dell'autore sanissimo, ma l'unità di ricerca principale è quella dell'Università di Firenze, coordinata, ed è il coordinatore dell'intero progetto, dal collega, dall'amico Riccardo Fanti. Il nostro progetto, Moscast, si prefigge di mettere a punto delle procedure per la validazione della suscettibilità da frana, ma anche delle buone pratiche per la messa in sicurezza, per la sistemazione di cavità in aree urbane. Infatti, in tutte e tre unità operative lavorano, perché è da un paio di mesi che il progetto è partito, lavorano fianco a fianco geologi e geotecnici, tenuto conto che metteremo a punto, sotto forma di un testo e poi ovviamente degli elaborati grafici, degli indirizzi per affrontare il tema caldo, scottante della messa in sicurezza delle cavità. Le tre unità operative hanno proposto delle aree di studio che rientrano nella propria attività storica, tenuto conto che è un progetto di durata non eccezionalmente lunga, con dei finanziamenti discreti, ma non particolarmente ampi, e quindi abbiamo pensato di investire su luoghi che in parte già conoscevamo. E questo è stato per la proposta fatta dall'ISPRA, con la compartecipazione dei colleghi del Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza, quindi si lavorerà ovviamente sull'area urbana di Napoli e poi su un'area altrettanto importante, anche se per fenomenologie diverse, per un contesto geologico diverso che voi ben conoscete, che è quello di Bidoni e Bagnetivoli. Altro caso di studio notissimo, già oggetto di molte pubblicazioni da parte dei colleghi della Scuola Fiorentina e non solo, è quello del Sincollo di Camaiore, come vedete situazioni diverse per l'assetto geologico e geomorfologico e anche per effetti, per conseguenze, sul costruito e comunque sulla superficie, sul contesto ambientale. Per quanto riguarda la nostra unità operativa, abbiamo proposto due dimostratori, uno nel cuore antico della città di Napoli, quello che si è stratificato al di sopra della città greco-romana e questo in particolare è un luogo che per noi geologi è caro e caro rimarrà nella memoria perché fino a tre, quattro anni fa è stata la sede del mio dipartimento. Purtroppo, il dipartimento non più idoneo ad ospitare un gruppo di ricercatori, di studenti di area scientifica, quindi da alcuni anni ci siamo trasferiti in periferia, nel campus di Monte Sant'Angelo, ma questo per noi resta il nostro luogo di elezione. Bene, al di sotto del complesso di San Marcellino, complesso monastico di origine romanica che poi è stato successivamente ristrutturato, diciamo trasformato in epoche successive, sapevamo dell'esistenza di una cavità ma di cui non conoscevamo granché perché al limite di questa cavità erano state sistemate alcune delle strumentazioni del mio dipartimento, in particolare una stazione di sismometrica. Quindi, partendo da questa iniziale, parziale conoscenza, abbiamo cominciato ad esplorare questa cavità che ancora, però, deve essere studiata in tutto il suo sviluppo. E vedete i primi risultati di questa esplorazione, di questi studi che abbiamo già pubblicato per un precedente progetto e poi ci dedicheremo con i colleghi delle altre due unità operative per noi a una parte dell'interland napoletano molto molto interessante, contesto geologico simile ma non coincidente, a Napoli abbiamo il tuffo giallo napoletano all'interno del quale sono state cavate quelle centinaia di cavità di cui parlavo poc'anzi, nel cosiddetto agernolanus invece abbiamo una fittissima, nell'ambito di tre centri abitati, abbiamo contato censito in circa 250 cavità, questa volta non più nel tuffo giallo napoletano ma nell'inibri da Rampana, un prodotto di provenienza flegrea più antico del tuffo giallo napoletano. Bene, in una delle cavità dell'agernolanus noi metteremo a punto insieme con i colleghi geotecnici e con le altre unità operative una procedura di sistemazione, quindi sceglieremo una cavità che abbia determinati requisiti di dimensione ma anche di criticità e su questa metteremo a punto una modellazione numerica per capirne il comportamento nella condizione attuale e poi una ipotesi anzi una vera e propria sistemazione un intervento di sistemazione che valuteremo poi in base alle possibili tecniche disponibili e alle risorse che potremo mettere a disposizione. Quindi una dimostrazione quest'ultima questa dell'iniziativa ministeriale che ha prodotto negli anni finanziare alcuni gruppi di ricerca che il tema merita ancora un approfondimento di carattere scientifico e in temi come questo è inevitabile il trasferimento il travaso dalla comunità scientifica a quella dei professionisti quindi noi abbiamo proposto alla fine del nostro progetto una serie di manifestazioni non tanto e non solo di promozione dei risultati che noi contiamo di conseguire ma soprattutto di illustrazione delle procedure delle tecniche delle metodologie che avremmo messo a punto per poter in questo modo favorire un progresso un approfondimento un aggiornamento professionale dei colleghi interessati sul tema specifico vi ringrazio dell'attenzione grazie grazie a tutti e ci parla per questo nuovo progetto e do subito la parola a Maurizio Ranzini il presidente della Stigione della Società e ci parla salve diciamo confermi i saluti e benvenuti a tutti però c'è stato un problema che dico io Stefano c'è stato un problema del coordinatore Angelo Corazza ha avuto un problema improvviso di tipo familiare per cui è dovuto andare via prima di iniziare questo intervento volevo ricordare due eventi uno di un convegno quello di cavità sotterranea che è stato fatto dalla Sigea CNR credo un dicembre di tre anni fa e gli altri si possono scaricare dal sito della Sigea e poi volevo ricordare un convegno di ben 20 anni fa fatto dalla Sigea Lazio con la provincia di Roma a Palazzo Valentini ho lasciato lì alcune copie di una locandina degli atti che si possono scaricare dal sito della provincia di Roma sono più di 200 pagine di interventi ma questo funziona mi sentite no allora questo intervento parla di cavità sotterranea ma da un approccio un po' particolare cavità sotterranea in aria urbana il lavoro dei geologi in aria urbana è particolarmente problematico nel senso che non abbiamo affioramenti diffusi abbiamo una storia a Roma bimillenaria di modifiche morfologiche riempimenti per cui in genere per fare il lavoro di qualunque tipo di tipo geoapplicativo abbiamo necessità dei sondaggi geognostici i quali però non sempre ci danno risposte adeguate al problema che abbiamo in questo senso sono utilissimi tutta la documentazione storica pregressa cartografica di carte del 7 800 e 900 documentazione fotografica e in particolare anche tutti articoli testi dei geologi ed archeologi che ci hanno preceduto adesso io presenterò tre questo va bene sono i caratteri quello che ho detto adesso e le problematiche legate alla presenza di carità sotterranea presenterò tre lavori di tipo professionale nei quali l'apporto della documentazione storica è stata utile fondamentale per capire il contesto del problema geoapplicativo che avevo questa in realtà questa qui è un evento della ricerca delle catacombe ebraiche di monteverde nel 2012 c'è stata una una voragine chiamocelo il puntatore una voragine durante la messa in opera di condutture del gas è intervenuta la sovrintendenza perché sapeva che nell'area del settore sud di monteverde c'erano documentazione storica di catacombe ebraiche le catacombe ebraiche di monteverde che non sono mai state ritrovate recentemente intervengono gli amici di Roma sotterranea che ha fatto il rilievo speleologico mi chiamano io vado sul posto in realtà questo non è un lavoro geoapplicativo lì sul posto ho conosciuto Daniela Rossi la sovrintendenza che mi ha proposto di partecipare come geologo a questa ricerca diciamo limitatamente a descrivere il contesto geologico di questo settore di monteverde sono delle calità nella formazione di montemaglio di sabbie e questa è la mappa che ha rilevato Roma sotterranea però vedete il proseguo ma è tutto franato ovviamente qui non si trattava delle catacombe sotterranee ma erano una cantina per recupero per il vino eccetera eccetera adesso la sovrintendenza inizia a seguito di questo evento un progetto di ricerca della documentazione storica delle catacombe ebraiche di monteverde qui ecco ci sono alcune indicazioni storiche per capire il problema che abbiamo innanzitutto queste catacombe vengono trovate per la prima volta nel 1602 a seguito di una frana di un collasso delle sottostanti cave di tufo lionato interviene viene studiata da Bosio il quale non fa una mappa ne fa una estremamente semplificata e poi altre frane la fanno sparire nel 17esimo e 18esimo secolo però ci sono altre esplorazioni vague di persone che vanno a rubare documentazione manufatti archeologici eccetera altre frane le fanno scomparire in tutto il 19esimo secolo molti studiosi archeologi e geologi vanno sul posto a ricercare queste cavità non trovano nulla perché altre frane praticamente le hanno rioblitarate fino a un momento fondamentale nel 1904 nel 1904 un'altra frana rifà emergere queste catacombe per puro caso vengono studiate da Müller Nicolaus Müller che veniva considerato allora il maggiore esperto di cavità catacombe ebraiche il quale tra l'altro era di passaggio a Roma perché veniva da Venosa dove stava studiando le catacombe ebraiche di Venosa le esplora fa una bella mappa però ci sono problemi per proseguire gli studi con la proprietà delle sottostante cave di Dufo Leonato i quali non volevano né interrompere per cui lui dopo un anno o due prende e se ne va e se ne va a Berlino e si porta via tutto dopo due anni muore e poi altre frane fra il 1905 e il 1920 rifanno scomparire ancora queste catacombe questa è la zona dove grossomodo dovevano essere nel settore sud di Monteverde questo è il Viale Trastella le circondazioni genicolense Piazza Dunang via le 420 inizia il lavoro ricerchiamo la documentazione storica 1924 Monteverde era appena iniziata l'urbanizzazione e ci sono questi indizi di accessi di cave di accessi in sotterraneo carta del 35 aumenta l'urbanizzazione ma rimangono dei segni di accessi ai poggeri questa è la mappa di Muller la mappa di Muller che è semplicemente indicata in questa maniera con questa scritta questa è stata tradotta grande fra solo che c'è un problema se noi andiamo a vedere l'orientamento c'è scritto S-N-O sud S è sud O N è nord O e O che cos'è? Ovest? No perché in tedesco Est è Oost e quindi discussioni con gli archeologi su cui ho messo o come Ovest o come Est tedesco praticamente prosegue la sovintendenza manda un archeologo a Berlino Marzia Di Mento a trovare documentazione del fondo Muller e ritorna con molte fotografie dell'epoca quindi 1905 1906 questa è una visione della cava questa è un accesso franato delle catacombe ebraiche questa è un'altra foto ci sono delle signorine che vanno evidentemente a fare una passeggiata questa è una documentazione di cui nessuno di questi è Muller la segnalazione è che questo al centro è un teologo esperto di religione ebraica e quindi adesso il problema è ma dove le piazziamo questa mappa di Muller esaminiamo la documentazione storica per tutte le ricerche storiche romane di De Angelis Dossati il quale fa un testo nel 1935 la catacombe ebraica di Monteverde qui è lui davanti a questi accessi e lui fa questo schema questo prospetto stradigrafico e mette c c c c c in basso il tufo di unato e qui mette il simbolo delle catacombe ebraiche ovviamente con una descrizione litologica dell'epoca io ho ridigitalizzato questo suo prospetto qui ho fatto la trasferimento con la documentazione di funicello che andiamo e ho fatto una sezione sulla carta del 24 e praticamente coincide perché qui lui mette un dosso e qui c'è un dosso di una valetta un altro dosso quindi grossomodo ci stiamo e praticamente allora questa che si vedeva qui in alto è a questo punto l'accesso alle catacombe ebraiche perché è a quota più alta 40-45 questo invece è un accesso quota 28 alle cave questa è una foto aerea del 1920 in cui si vedono queste scarpate di accessi questi sono dei dirigibili questa è un'altra foto del 26 che questa però non è stata ben individata dovrebbe essere una zona di Viale Trastevere verso la stazione di Trastevere perché vedete qui c'è un accesso chiaramente a una catacomba questa è una foto del 35 quando hanno già o stanno facendo la circonvolazione è già nicolense l'urbanizzazione vedete prosegue questa è la localizzazione che praticamente è stata studiata questa è la mappa di Müller queste sono le tracce di quelle cavità della carta del 24 questa qui è circonvolazione di Gianicolense via Massi e questa che vedete qui in giallino è la vecchia via di Monteverdo ormai completamente sparita questa è la situazione dov'è? la zona è questa piazza Dunant via Massi e questa è la situazione attuale quindi queste catacombe ad oggi non c'è nessun accesso ecco per chi volesse è stato poi la sua intendenza pubblicato questi atti di più di 300 pagine che può essere scaricato gratuitamente dal sito Accademia Edu basta che digitate catacombe bravi Monteverde vi compare o alla fine della editing di quel testo a Via Valla sempre in questa zona di Monteverde Sud come vado Stefania con i tempi come vado perché c'è un altro due praticamente durante un vecchio edificio di fine ottocento è stato acquistato per farci residenziale e un parcheggio sotterraneo durante le indagini trovano delle cavità sotterranee a meno 20-22 metri dal piano campagna l'impresa è stata disponibile che ha fatto questo pozzo di 80-90 cm e gli spedologi di Roma sotterraneo sono scesi per vedere cos'erano queste cavità e hanno trovato esplorato le cave di Tufo sotto le catacombe ebraiche delle quali non c'è nessun accesso qui vi faccio vedere alcune foto durante il rilievo con scanner laser ci sono queste strutture che poi questa cave è stata anche utilizzata come rifugio antiello durante l'ultima guerra qui c'è poi a un certo punto uno splendido laghetto infatti vedete questo ospedologico che sta proprio in meditazione totale questa è grosso modo la localizzazione delle cave di Tufo di Onato che praticamente partono da grosso modo quasi da Piazza di Onate e arrivano fino quasi a Viale Trastevere via Valla ecco questo è il punto dove c'è stato il crollo scusate il crollo dove sono entrati da un accesso verticale in quel tubo gli spedologi di Roma sotterranei e camminando camminando l'hanno rilevata tutta questi che vedete sono i pilastri questo grigio sono frane secondo caso via Nomentana Villa Blanc Villa Blanc è un parco urbano che però circa 7-8 anni fa 9 anni fa il comune di Roma l'ha venduto alla LUIS all'università che ci voleva fare praticamente attività didattiche durante le indagini vengono fuori una rete caveale che anche qui viene esplorata dagli spedologi di Roma sotterranea questa è la via Nomentana questa è la villa scendendo da vari gradini c'è questo corridoio scende si entra nella rete caveale ed è questa qui pilastri numerati e bordo qui il problema innanzitutto c'era un problema dalla carta geologica risulterebbe che qui c'è il tufo Leonardo tra le indagini non compare queste sono alcune immagini della rete caveale veramente molto dissestata flussi d'acqua crolli pilastri quasi a clessidra frane vedete crolli ho il problema qual era lì questa è Villa Blanc e io qui ho le catacombe del cimitero maggiore e qui vicino le catacombe di Sant'Agnese mi sono a posto ma non è che sono in qualche maniera collegate questa è la cimitero maggiore ah ecco anche perché le catacombe del cimitero maggiore e le catacombe di Sant'Agnese come sono fatte c'è un accesso in superficie di una cava di Pozzolana di epoca romana si scende ancora entriamo nelle catacombe quindi allo stesso livello queste due catacombe avevano un arenario al primo livello ipogeo quindi il dubbio era non è che sono collegate questo De Angelis Dossat fa nella sua geologia le catacombe romane fa questi due prospetti che io qui ho accoppiato diciamo lasciando omogenea la scala di tutte e due questa qui è la livelletta di via Nomentana catacombe di Sant'Agnese arenario poi si scende catacombe idem cimitero maggiore arenario e scendiamo alle catacombe De Angelis Dossat fa anche una sezione parallela alla via Nomentana in cui mette questa è la livelletta della via Nomentana e a un certo punto mette una una gibbosità a tratteggio e poi scrive recenti sbancamenti per una regolarizzazione della via Nomentana stessa per evitare un locale morfologia addosso forse era questo il motivo per cui Leonardo è stato eliminato questa è una sezione geologica che adesso è inutile dilungarci questa qui è la villa si scende eccetera poi nel 58-60 c'è un altro intervento di allargamento della via Nomentana tant'è vero che il bordo della Villa Blanca viene arretrato facendo una piccola complanare e qui ci sono questi giardini che stanno due metri sopra è chiaro che questo qui è il livello di quota originale prima dello sbancamento e dell'abbassamento durante il rilievo c'è una sorpresa a un certo punto su un pilastro leggo Nicola dei nomi Felice eccetera eccetera Gio Argenti e in calotta questo numero che non era ben chiaro che lì per lì ho pensato a uno scherzo però in realtà se io lo giro c'era scritto 1791 qui mi ha dato una mano un collega ho trovato un testo di Mariano Armellini archeologo che praticamente nel 1880 esplora le catacombe di Sant'Agnese e l'arenario e a un certo punto scrive nel centro di questo arenario ho trovato con la calcia scritti i nomi eccetera eccetera quindi praticamente quello che ho visto io è stato visto tale e quale da Armellini nel 1880 quindi quella scritta era vera tra l'altro vi voglio far vedere una cosa questa notazione qua ha importanza anche dal punto di vista geomeccanico e geotecnico perché sotto questa scritta c'era tutto questo materiale franato normalmente in un incrocio la calotta crolla e va sul pavimento ma in realtà il fatto che io che io ho trovato quella scritta sulla calotta questo che risale alla fine del settecento questo materiale sotto non è franato dalla calotta poi ricostruendo è semplicemente perché quando hanno fatto gli allargamenti della via Nomentana l'hanno intercettata e ci hanno buttato dentro i materiali di scavo dell'allargamento e di sbancamento quindi questa calotta non è a rischio era stabile andiamo avanti con l'ultimo via Giannetto Valli via Giannetto Valli è questo tratto qui che è soggetta a voragini dagli anni Ottanta continuamente viene chiusa e riaperta chiusa e riaperta eccetera eccetera questa attualmente è ancora chiusa per avvallamenti voragini pertanto per fare senza perdere tempo voragini questi sono dati Ispra 78 voragini 89 91 91 95 98 2001 2007 in una sequenza fino agli anni passati a pochi anni fa per esempio il comune di Roma mi ha dato questa documentazione di un'indagine geosonda che hanno fatto centinaia e centinaia di perforazione e di istruzione determinando però la presenza o meno di vuoto senza altre notazioni successivamente ad altre voragini in cui avevo partecipato sono state fatte indagini video in foro qui alcune immagini di queste cavità sono delle cavità di cava in sabbie sabbie ghiaie questa è la prima mappatura che è stata fatta e quest'angolo qui che era quello più a rischio di una voragine molto estesa è stata riempita isolando un'area con i sacchi otturatori in modo di isolarle e poi riemprendola con miscele tipo microfix idonee per riempire cavità geologicamente ventriglia mi dice che qui ci sono cave sotterrane geologicamente qui abbiamo la via della Magliana le alluvioni del Tevere alla base ci sono sabbie e ghiaie e sopra delle agile tutte e due della formazione di Ponte Caleria e su in alto dove c'è questa villa è una clinica giuseppina ci sono dei tuffi piroclastiti questa è un po' la sezione trasversiale vedete qui via della Magliana l'accesso era qui questa è una sezione con tutte le indicazioni di pogei e di cavità sotterranea nel 2018 il comune fa una gara finanziata dalla regione Lazio per la messa in sicurezza di questa strada fa fare ulteriori indagini geogradar eccetera eccetera però il problema fondamentale qual è? è perché ci sono quelle cave di sabbie ghiaia lì che è un'area completamente non urbanizzata infatti questa è la carta del 39 tutto tranquillo non c'è nessuna indicazione questa è dello 52 di Von Mock l'unica variazione nessun indizio che c'è una ferrovia poi vedremo che è collegata alla situazione carta del 24 indizi morfologici di accesso a cavità sotterranea al piede del versante questa qui è via Giannetto Valli tratto incriminato e sopra c'è una villa colle Iacobini questa è una fodera del 34 con indizi di voragini queste le IGM primi anni 50 come vedete è ancora non urbanizzata l'area qui c'è un indizio di accesso a cavità e un altro qua questa è una fodera addirittura del 60 questa è la clinica e via Giannetto Valli non esiste ancora non è questa questo è un camminamento della proprietà della villa questa qui vedete è sterrata nemmeno esiste quindi totalmente disabitata non urbanizzata e chi è che va lì a prendere queste sabbie e ghiaie avevo una carta dell'80 al 1887 dove sono segnate con delle pallette una numerazione le cave attive a fine 800 del ministero di agricoltura e qui infatti la 124 è dove stavo io qui mi ha dato una mano Carlo Rosa che è riuscita a trovarmi il testo praticamente al centro del privato Colli di Santa Passera qui c'è il proprietario a circa 4 km da Porta Portese per la via Magliana con accesso al vicolo dei Grottoni che è una zona una sala lì sotto con delle cavità in tufo leonato la ghiaia serve lavori a cielo aperto la ghiaia serve per la manutenzione del piano stradale della ferrovia tra Roma e Civitavecchia quindi quelle cave sono state fatte sono state cave di prestito per la costruzione della ferrovia fatta a metà 800 io vorrei finito qui c'ho un elenco di dati importanti dal punto di vista storico carta di Roma e suburbio del 24 Roma e dintorni tutte queste carte molte stanno nel libro di Frutas del 62 sono importanti anche per esempio foto aeree documentazioni fotografiche qui non c'è stato ma per altri lavori per esempio mi sono stati utili anche delle vedute artistiche del 600-700 che danno un'immagine di allora anche se non è topografica è artistica però danno un'idea di quello che è cambiato nell'area romana io per l'è finito grazie grazie come sapete oggi siamo un po' scherzi con i tempi però lo spazio per almeno una domanda la lasciamo ma se non sarei due decine allora grazie proseguiamo c'è c'è una domandina scusa non riesco a capire poi avvicinarsi un attimo volevo sapere se è stato consultato l'archeo della politica con gli strumenti di archeologia Saga per quanto riguarda la mentana no no perché questo è un lavoro che risale più di 10 anni fa e c'erano in realtà dei problemi per andare ad acquisire i dati adesso sembrerebbe di no sembrerebbe di meno sarebbe interessante però tanto però diciamo la documentazione l'ho trovata di armellini quindi non c'era una necessità però vi dico una cosa dato che in questa cava di Villa Blanca c'è a livello della rete caveale c'è una serie di scenderie che scendono nei tuffi antichi quindi al di sotto della cava a livello delle catacombe punto interrogativo nessuno è mai entrato perché c'è un accesso di queste dimensioni quindi è da super speleologi credo che poi alla fine poi ci sarà pure un problema con la LUIS perché evidentemente il lavoro era di valutare la stabilità della rete caveale perché poi sopra doveva essere frequentata da studenti quindi la cosa che non mi ricordo che c'era c'era però qualcuno della sovrintendenza però del comune di Roma lì del comune ma non della commissione pontificia perché lì il problema è che potrebbe esserci effettivamente un altro cimiteriolo chiamato cimitero minore allora a questo punto se tu sei collegata potresti fare un tentativo alla LUIS devi vedere se sono disponibili a però tieni conto magari c'è una serie di camminamenti da dentro la villa il manufatto ci sono delle scalette che scendono e arrivano a livello della cava di Pozzolana c'è un altro camminamento che scende ancora sotto e io mi ricordo che sono andato giù con gli amici di Roma Sotterranea loro hanno fatto un tentativo di entrare però era più complicato poi tutto si è sospeso io ho consegnato il lavoro credo che adesso sia tutto chiuso però diciamo è una possibilità non remota che ci sia anche sotto un collegamento con le tatacombe proprio niente posso chiedere ancora un romanzo velocissimo velocissimo e volevo sapere se la reti che aveva la strada la trada circomala su Giannico Lenz in pianta dovrebbe essere con le scelte con le catacombe ebraiche quali? ripendi un attimo se troppo sveglio la rete caviale con strada in pianta su circomala su Giannico Lenz quella della cava di Duffo Leonato sotto se dovrebbe essere con le scelte con le catacombe le catacombe dovrebbero stare sopra che a un certo punto queste catacombe arrivavano nel versante e lì c'erano gli accessi però nello stesso tempo questo versante a quota inferiore c'erano gli accessi dei cavatori e via via sarà crollato un pilastro sarà crollato lì e le catacombe ebraiche praticamente collassavano o veniva delle frane sul versante o collassavano all'interno tanto è vero che poi all'interno questo qui è un lavoro non definito perché noi avevamo fatto un'offerta con Roma sotterranea di fare un'indagine anche geomeccanica e anche col municipio dieci anni fa di fare uno studio perché non sappiamo bene dal punto di vista geomeccanico geotecnico la sicurezza dei fabbricati che stanno sopra però non avevano risorse economiche poi dicevano magari facciamo una prima fase poi non abbiamo saputo più nulla per cui dato che all'interno di queste cave di dufo leonate è pieno di macerie ma anche degli anni 30 40 50 per cui dal punto di vista di archeologia urbana potrebbe essere interessante andare a visionare e scavare e non è detto che non ci siano dei frammenti delle soprassanti catacombe però lì è sospeso insomma è tutto ok bene grazie Maurizio passiamo alla prossima presentazione Sergio Madonna Amelind Stefano Inizio le carità sotterranee nei tutti i calcari dei sottosoldi dei genuti in prima istanza come si cioè esce qui allora buongiorno a tutti sono particolarmente felice di condividere con voi i risultati ancora preliminari di questo studio che abbiamo fatto sulle cavità nascoste nel sottosuolo dei rieti perché devo dire io la prima volta che sono entrato in una di queste cavità sono rimasto assolutamente basito perché non avrei mai immaginato che in pieno centro storico di Roma in quelle condizioni geologiche e geomorfologiche ci potessero essere delle cavità così estese fra l'altro delle cavità carziche riadattate per scopi antropici e in alcuni casi addirittura come vedremo con dei pilastri di edifici sovrastanti che finiscono all'interno di queste cavità quindi una situazione estremamente interessante dal punto di vista scientifico ma una situazione anche che dovrebbe testare una certa attenzione per quanto riguarda il discorso della stabilità complessiva di queste cavità perché non è stato mai fatto un censimento non sono mai state studiate in precedenza e quindi è un'occasione anche per portare diciamo a conoscenza di tutti dell'esistenza di questo sistema in realtà può essere anche un sistema abbastanza esteso di cavità all'interno dell'area urbana di Rieti e io mi occupo più di geologia di stratigrafia di cartografia geologica quindi in origine lo studio non era partito dall'analisi delle cavità sotterranee ma ci stavamo occupando insieme ad Anna Gandin dei depositi carbonatici continentali della piana di Rieti e studiando questi depositi anche quelli della piana di San Vittorino e della valle del Velino e ci siamo accorti di una certa correlazione tra la distribuzione dei sinkhole e la presenza di questi depositi carbonatici continentali quindi abbiamo incominciato a indagare su quelli che potevano essere i fenomeni carsici anche in questi depositi che sono depositi relativamente recenti quaternari in cui non si pensa magari proprio perché sono relativamente recenti che ci possano essere dei sistemi carsici anche importanti e nel Lazio in realtà poi questi depositi danno luogo nel 2003 sono l'ultimo censimento mi pare erano stati sentiti oltre 110 grotte per uno sviluppo complessivo di 5 km quindi parliamo di depositi che possono essere anche carsificati e dare origine a sistemi di cavità sotterranea anche molto interessanti e permettetevi una piccola parentesi di carattere diciamo geologico serimetologico normalmente i depositi di rieti vengono chiamati travertini ma non sono travertini sono nelle più recenti classificazioni andrebbero definiti come calcareo stufa i travertini sono dei depositi prodotti da acque supersature calde quindi è necessario un circuito idrotermale una presenza di una sorgente che produce questi depositi mentre invece i calcareo stufa vengono prodotti da acque sature fredde quindi sono due ambienti due sistemi deposizionali completamente diversi e capire la genesi della placca dei cosiddetti travertini cioè dei calcareo stufa di rieti senza tener conto delle condizioni geologiche e delle modalità con cui questi depositi sono prodotti può essere complesso quindi farò una brevissima parentesi proprio su questo aspetto per capire poi perché ci sono questi depositi con questi spessori perché stiamo parlando di depositi che nella zona di rieti arrivano anche a 60 oltre 60-70 metri di spessore nessun sondaggio che è stato fatto nella zona di rieti ha trovato praticamente la base di questi e di questi depositi che si formano a causa dell'azione di acque scorrenti superficiali mineralizzate che creano degli sbarramenti e delle autocostruzioni che a seconda poi delle condizioni morfologiche possono dar luogo a diversi tipi di face se pensate quando si creano degli sbalzi morfologici come nel caso della cascata delle marmore la velocità di costruzione di questi depositi è estremamente elevata e nel giro di tempi relativamente brevi dal punto di vista geologico crescono talmente tanto velocemente questi depositi a creare poi dei problemi anche in tutto il reticolo etrografico che sta a monte quindi l'analisi di Faces è fondamentale per finalità diciamo anche applicative perché chiamare travertini dei depositi che sono dei calchiari e stufa ha un'implicazione anche di carattere tecnica e geomeccanica siamo a Roma vedete i movimenti qui intorno sono fatti di travertino di lapis di burtinus ma si tratta di un materiale relativamente compatto relativamente denso per quanto poroso i calchiari e stufa sono materiali molto più friabili molto più porosi pensate alle mura di rieti è difficile persino tirarne fuori dei blocchi che possono essere lavorati squadrati quindi due materiali che hanno una diversa origine una diversa genesi caratteristiche tecniche completamente diverse eppure vengono chiamati con lo stesso nome e questo non non è molto corretto per quanto riguarda i depositi di rieti poi rientrano diciamo in un sistema deposizionale a bassa energia un sistema palustre e lacustre questo spiega le geometrie e l'organizzazione di questi depositi ma spiega anche lo sviluppo dei sistemi di cavità sotterranee che abbiamo individuato o riscoperto se volete i rieti fra l'altro si trovano in un contesto strutturale molto particolare siamo a rivolso della linea olevano antrodoco un settore in pratica un bacino estensionale post collisionale settore di catena strutturato inizialmente nel messiniano ma poi riattivato fuori sequenza nel messiniano superiore più cene inferiore quindi stiamo parlando di tempi molto recenti un settore quindi interessato da una tettonica compressiva ma soprattutto estensionale in tempi recentissimi che ha creato inizialmente un half graben dentro il quale è iniziato a depositarsi una successione classica continentale molto pesante molto spessa che ha riempito poi sia la piana reatina sia la media valle del velino dove sta la piana di san vittorino a questa successione classica molto conosciuta si associano poi dei depositi invece carbonatici continentali che si formano solo in alcuni settori della piana che adesso vedremo perché che hanno però ugualmente degli spessori importanti e fra l'altro bisogna considerare che l'assetto strutturale della piana di rieti condiziona anche i fenomeni carsici perché la fase estensionale del plistocene medio oltre a portare alla risalita di magmi e ultramafici quelli di cupaello di polino ha creato anche un sistema di fratture attraverso il quale risalgono dei fluidi profondi molto aggressivi nei confronti dei calcarii che contengono H2S e CO2 quindi i fenomeni carsici nell'area sono particolarmente complessi anche la geochimica delle acque per questa miscelazione tra fluidi e acque profonde e acque superficiali e la genesi del bacino di rieti poi è estremamente complessa è stata ben studiata negli anni 80-90 da Parotto che ha vinato il Parotto poi successivamente nel 2004 le ricostruzioni paleogeografiche fatte da Berrieri e Tal che hanno un po' ricostruito quella che è stata l'evoluzione di questo bacino è estremamente interessante il fatto che nel Pliucene Superiore quando si è andato a strutturare l'Alf-Grabben del bacino di Vieti il reticolo idrografico il drenaggio era verso sud quindi il paleo nera drenava nella parte meridionale della piana esattamente l'opposto di quello che è oggi nel Pliucene Inferiore nel Pliucene Inferiore il paleo nera viene deviato ma il drenaggio continua ancora verso sud bisogna aspettare in pratica la fase distensiva del Pliucene medio che è quella più importante che porta anche alla messa in posto di questi magmi che è di cui parlavo prima che crea il vero e proprio Graben e crea anche tutta una serie di settori cioè cambia la morfologia della piana di Vieti e crea dei dislivelli morfologici che dal punto di vista della deposizione dei cosiddetti travertini cioè del calcareo e stufa di Vieti sono fondamentali perché si crea in pratica un primo sbarramento un primo salto morfologico all'altezza della cascata delle marmore e un secondo nella zona di Vieti che si trova molto ribassato rispetto a quella che era la posizione attuale in corrispondenza di questi salti morfologici il reticolo etrografico fra l'altro si inverte non drena più verso sud ma invece torna nella posizione attuale cioè attraverso la soglia delle marmore finisce nel nera come è anche attualmente e questa situazione porta alla crescita di due soglie in pratica create dalla costruzione di questi depositi carbonatici continentali una in corrispondenza delle marmore e un'altra in corrispondenza della parte medionale della piana dei rieti dove sono i depositi e le cavità che ci interessano e la velocità di crescita di questi depositi è tale da creare poi degli sbarramenti e da condizionare anche lo sviluppo di tutti i terrazzi anche che sono a monte il sistema di rieti controlla in qualche modo lo sviluppo dei terrazzi della valle del velino che sono stati studiati anche qui troviamo depositi carbonatici continentali su 6 ordini dei terrazzi che sono stati poi correlati con altrettanti sintemi in termini più in anni più recenti ma le relazioni tra tettonica e clima e tasso di produzione dei carbonati è tale da condizionare anche lo sviluppo recentissimo nella piana perché questi depositi crescono molto velocemente ma vengono anche erosi molto velocemente quando abbiamo delle fasi climatiche aride e fredde quindi durante l'acme dell'ultimo glaciale la soglia dei cosiddetti travertini cioè dei calcario stufa delle marmore viene completamente incisa e tutto il reticolo idrografico si ringiovanisce e quindi è solamente a partire da tempi recentissimi cioè dal plessocene superiore che inizia il riempimento l'ultimo riempimento della piana di rievi e la soglia dei travertini delle marmore voglio dei calcario stufa meglio va a bloccare quello che è il trenaggio della piana quindi si crea il famoso lagus velinus che sarebbe ancora lì se nel terzo secolo avanti Cristo Curzio Dentato il console romano fece la prima grande opera di bonifica fece costruire un canale per drenare le acque della piana di rieti dentro il nero e quindi creando la cascata delle marmore che è di origine artificiale in questo caso ma la velocità di produzione dei carbonati è tale che sono state necessarie poi nel corso dei secoli più bonifiche proprio perché la crescita di questi depositi andava ad occludere praticamente i canali che venivano costruiti quindi una situazione abbastanza articolata che vede ai margini meridionali della piana dei rieti e nella zona delle marmore la crescita di depositi calcare continentali con spessori anche molto importanti che sono correlabili poi con le relative successioni classiche continentali questa era una premessa scusate ma fondamentale per capire poi le spessori e le geometrie dei depositi di rieti e anche la geometria delle cavità sotterranee che abbiamo trovato i dati sulla piana sono veramente enormi sono tanti noi abbiamo raccolto una bibliografia veramente notevole con dati anche molto puntuali tutti i dati che per gestirli io ho creato un piccolo progetto GIS in cui inserire tutti questi dati quindi ci sono oltre ai dati che derivano dalle stratigrafie le schede descrittive degli affioramenti tutta la parte di ricerca che abbiamo fatto i sondaggi anche profondi che sono sono stati accusi alcune pubblicazioni scientifiche questo è interessante perché nella località Rieti quattro strade o tre strade meglio vedete c'è un sondaggio oltre 67 metri di calcareo stufa mentre invece poche decine pochi qualche chilometro più a sud abbiamo un altro sondaggio in cui non ci sono proprio questi depositi carbonatici continentali quindi la morfologia e le caratteristiche deposizionali controllano la geometria e questa associazione questa contaminazione se volete tra aspetti applicativi a ricerca stratigrafica secondo me è molto importante perché io pur non occupandomi di geologia applicata la collega Stefana Niso che infatti è stata coinvolta nello studio perché per quanto riguarda cavità sotterranea e sprofondamenti lei l'esperta ma deve esserci una maggiore collaborazione perché la ricerca stratigrafica può fornire molti indizi anche alla geologia applicata e tutti i dati che abbiamo raccolto poi sono stati utilizzati anche per ricostruire questo un po' dettaglio della cartografia geologica dell'area urbana di Rieti e in realtà qui sono stati fatti anche negli ultimi anni ben tre studi di microzonazione sismica primo, secondo e terzo livello e grazie a questi studi siamo riusciti ad acquisire anche alla collaborazione dei professionisti locali tutta una serie di stratigrafie di sondaggi parliamo di centinaia di dati stratigrafici che sono stati già referenziati inseriti nel GIS e che quindi permettono di ricostruire un modello del sottosuolo di Rieti abbastanza raffinato perché si ha un'idea degli spessori se non ci sono i dati ecco queste stratigrafie che a volte non vengono raccolte e questo è un appello che dico anche in funzione della nuova cartografia che deve essere prodotta questi sono tutti dati preziosi soprattutto in area urbana dove non ci sono affioramenti poter disporre di un database delle stratigrafie è fondamentale sia per i professionisti sia di chi si occupa di protezione civile per tutti insomma comunque questo è il centro storico dei Rieti vedete ci sono dei depositi di riporto poi abbiamo i calcare stufa che sono in Verdino in questa zona qui abbiamo dei depositi alluvionali ma sotto ci sono anche i calcare stufa quindi abbiamo delle situazioni in cui questi cosiddetti travertini sono subaffioranti coperti solo da una coltre molto superficiale di altri depositi altre situazioni in cui abbiamo spessori anche importanti di terreni di riporto e di depositi alluvionali ma sotto ci sono sempre questi depositi carbonatici altro dato interessante è il reticolo idrografico vedete e qui abbiamo indicato dei terreni di riporto perché attualmente il velino scorre molto più a sud ma anticamente scorreva molto più vicino alla piana di Rieti e GIS è utitissimo anche in questo georeferenziare dalle vecchie carte topografiche a carte delle mappe del catastro Gregogliano permette di ricostruire l'andamento del reticolo idrografico da delle informazioni fondamentali per le ricostruzioni del territorio e fra l'altro quelle faglie che vedete sono le faglie ricavate grazie al protocollo esparico e Itaga le faglie cosiddette attive e capaci e questo è un altro elemento che dovrebbe far riflettere perché è una zona in cui ci sono cavità sotterranee in che a parte non censite con prossime a faglie classificate come attive e capaci che sapete bene che queste faglie possono generare degli eventi locali anche molto intensi quindi è una situazione che a mio parere dovrebbe essere diciamo monitorata con maggiore attenzione e qualche esempio di quella che era la rupe o l'acropoli di Rieti come la chiamano gli archeologi quando il velino scorreva in pratica molto prossimo a quella che è la zona adesso del centro storico di Rieti e qui c'è un indizio che ci fa capire anche la forse un possibile meccanismo di formazione di queste cavità sotterranee qui abbiamo calcareo stufa vedete sono stratificati in banchi anche molto molto spessi e notate però che c'è una diciamo le deciture sono suborizzontali perché siamo in quelle facie spalustri lacustri quindi abbiamo un'alternanza di facie di tipo fiteormali in cui c'è la vegetazione in posto cioè le concrezioni si sono diciamo formate proprio sulla vegetazione che però passano ad alternanze di facies micritiche e fitoclastiche e perché vi dico questo perché questa differenza in termini di facies corrisponde alla differenza in quelle che sono le caratteristiche meccaniche dei materiali infatti se andiamo a vedere questa immagine fateci caso ci sono poi delle discontinuità legate ai processi di accrezione di questa piastra ma ci sono alcuni banchi che sono più competenti e altri che invece reagiscono diversamente nei confronti delle sollicitazioni meccaniche quindi di fatto abbiamo dei sistemi di fratture che interessano una porzione di questo banco ma non sono non proseguono poi in quello superiore o sottostante anzi più è competente più mi critica la facies più competente la roccia più è facile che venga fratturato quindi la situazione qual è? che abbiamo questi banchi con dei sistemi di fratture attraverso i quali l'acqua può agire producendo delle forme carsiche che tendono ad avere un deflusso tendono ad avere un andamento di tipo suborizzontale perché seguono l'andamento preferenziale di queste fratture del resto questo tipo di situazione è stata riscontrata anche in altri sistemi di cavità sotterranee che sono stati esplorati e documentati nella zona del pianuro delle marmore questi sono quindi alcuni esempi venendo adesso al tema scusatemi per la lunga premessa ma sono depositi un po' particolari e penso che era necessario fare un po' il punto per capire perché a Rieti abbiamo una situazione di questo tipo che ha veramente delle incredibili e siamo andati a fare poi un censimento dei sinkhole che sono quelli che l'ha fatta Sepania Nisio ma anche delle cavità sotterranee che si possono classificare fondamentalmente in tre tipi questo è un censimento del tutto preliminare cavità sotterranee per le quali è stato esiste o è stato possibile produrre una planimetria cavità sotterranee sono cunicoli non esplorati acquisiti da fonti storiche da fonti varie quindi che andrebbero verificate che sono quelle in verde e cavità carsiche quindi ma di carattere di tipo puntuale ce ne sono veramente decine e infine delle cavità antropiche proprio antropiche forse sarebbe pure improprio definire delle cavità che sono quelle del circuito della cosiddetta rieti sotterranea ecco questa è la cavità carsica che troviamo sotto la caserma Verdi Rosi di Rieti circa 10 metri di profondità vedete è stata era stata utilizzata come rifugio antiaereo durante la seconda guerra mondiale è una cavità che è stata riscoperta alla fine degli anni 90 grazie ai lavori di ristrutturazione ma questa immagine vedete è veramente incredibile cioè prima che venisse allargata per fare rifugio antiaereo c'erano salattiti salagmiti era una cavità carsica a tutti gli effetti anche molto estesa stiamo parlando di dimensioni dell'ordine di 4-5 metri di larghezza per 5 metri di altezza del pieno centro storico di Rieti a pochi metri di profondità cioè qualcosa che ha veramente incredibile io ringrazio qualche occasione per ringraziare il colonnello Passi che è il comandante della scuola NBC di Rieti che poi ha in qualche modo permesso di lievi all'interno di questo rifugio ci ha permesso quindi però è aperto al pubblico non sempre ma su appuntamento si possono organizzare anche delle visite e colgo l'occasione anche per ringraziare un mio giovane studente Virgilio Pendola che abbiamo qui e che a Rieti abbiamo anche un corso di scienze della montagna uno l'unico forse da questo punto di vista nell'Appennino centrale che è proprio finalizzato per le aree interne del nostro Appennino dove abbiamo insieme a competenze geologiche competenze di carattere forestale territoriale e che richiamo anche appassionati diciamo della montagna del nostro territorio che non sono proprio giovanissimi ma che con la loro esperienza danno un bel contributo anche ai nostri studenti mettere insieme delle persone diversamente giovani con una certa esperienza e ragazzi invece che sono veramente giovani è veramente importante scusate il piccolo spot pubblicitario ma guardate la platimetria che ha prodotto Virgilio che poi fa parte del gruppo speleologico di Narni della società speleologica italiana è stata georeferenziata e questo è in pratica il pilastro questo pilastro che sfonda la volta della cavità sotterranea e finisce traversa via Verani e finisce sotto l'ufficio delle entrate di Rieti forse qualcuno con l'ufficio delle entrate potrebbe auspicare un qualche tipo di crollo non so però è una situazione assolutamente particolare perché vedete a quei tempi il rifugio era chiuso perché tutti i rifugi sono stati tombati quindi abbiamo altri rifugi di questo tipo si trovano sotto piazza Vittorio Emanuele II questi non sono visitabili sono stati esplorati dai vigili del fuoco abbiamo poi planimetrie disponibili per oppressor comune poi abbiamo questi locali particolari che sono il Birciba via De Pozzi e poi tutti i locali della Rieti sotterranea perché il ponte romano di Rieti la zona era impaludata è un bellissimo percorso di geoturismo che può essere fatto nell'area urbana di Rieti il tempo è quello che è quindi vado a concludere dicendovi che è necessario approfondire questo discorso delle cavità sotterranee di Rieti ma che possono creare dei problemi dal punto di vista della stabilità geologica ma possono essere anche una fonte di grande ricchezza perché l'intuizione che è venuta Rita Giovannelli di creare un circuito turistico che richiama adesso diventata una delle principali attrazioni della città di Rieti e l'acropoli di Rieti è veramente la punta dell'iceberg quello che vi ho fatto vedere perché lì ci sono resti romani nelle cantine dei palazzi cioè è un mondo incredibile quindi se da una parte le cavità sotterranee possono dare dei problemi di instabilità e vanno censite e vanno controllate da un'altra possono essere rappresentare anche una forma una risorsa per il territorio se fruite se documentate e rese fruibili perché noi abbiamo sotto i nostri piedi un patrimonio storico archeologico veramente incredibile anche in posti dove uno non se l'aspetta mai allora grazie io credo che dovremmo passare subito a dare la parola a Giuseppe Giusotti che sarà un po' e mi ricordo credo di Dan Fortolani che come sapete ci ha lasciato a dicembre grazie Franco Ortolani è stato professore di geologia a Napoli un po' tutti i geologi in tutta Italia lo conoscevano perché ha fatto tante cose importanti lui ma oltre l'aspetto scientifico molto elevato lui è uno di quelli che si sporcava le mani come si vuol dire lui è intervenuto per anni in tutte le situazioni in cui prevaleva l'aspetto dell'arricchimento dello sfruttamento delle risorse naturali a danno dell'ambiente c'è un lungo elenco di suoi interventi volendo chi scrive scrivendo a infochioccio la cgweb.it noi possiamo inviare un documento che sintetizza solamente alcune di queste sue attività io personalmente per esempio lo ricordo quando si è battuto contro la costruzione o la realizzazione di una discarica di rifiuti alle porte di una riserva naturale tanto per dirne una oppure quando si è battuto per contrastare alcune ricerche petrolifere nell'Appennino non è che lui fosse contrario alle ricerche petrolifere però erano ricerche petrolifere secondo lui mal progettate mal condotte che minacciavano l'ambiente sotterraneo e superficiale io lo ricordo perché anche è stato per lunghi anni socio della Sigea ha pubblicato sulla nostra rivista molti articoli anche per questo noi possiamo inviare un estratto un pdf di questi articoli e infine lo ricordo perché lui nella sua diciamo volontà di battersi scusate per l'ambiente ha aderito alla formazione di Grillo diciamo e in particolare si è battuto ecco qui c'è la rappresentanza del servizio geologico lui insieme ad alcuni deputati senatore anzi perché lui era senatore dei 5 stelle si è battuto per varare quella legge che ha portato un contributo per continuare riprendere i lavori per la parte geologica d'Italia qualcuno dicevano questi fondi erano troppo scarsi meglio pochi fondi che niente perché fino allora non so per 15 anni mi pare tutti i politici parlavano di continuare con la realizzazione della carta geologica ma come al sole tutti parlavano e nessuno agiva un altro argomento per cui lui si è battuto è quello della protezione delle acque sotterranee acque sotterranee che sappiamo tutti sono la riserva idropotabile del nostro paese ecco e lui non solo ha scritto qualche articolo sempre sulla nostra rivista su questo aspetto della protezione delle acque sotterranee anzi lui parlava appunto dei santuari dell'acqua potabile e tant'è vero che è sua una proposta di legge per salvare questi santuari dell'acqua potabile che corrispondono grossomodo agli acquiferi carbonatici appennilici praticamente il discorso è questo come c'è la protezione con le riserve naturali con i parchi naturali con i parchi nazionali delle risorse superficiali la grande risorsa sotterranea per l'Italia sono le acque pure le acque pure rimaste per fortuna ancora che vanno protette quindi un saluto particolare a Franco Ortolani peccato che ci ha lasciato perché sicuramente avrebbe continuato a difendere l'ambiente e anche noi forse grazie grazie se posso aggiungere una nota personale io stavo interagendo con voi da alcuni mesi ormai sui temi invece della pecosassismo e della vulnerabilità tema che ci sta molto a cuore nel drappello dei quattro giochi 5 stelle al senato dove era più attivo su tutto in particolare questo tema in ottobre ci siamo incontrati a parlare di varie cose sapevo che stava aveva problemi in salute e non mi aveva mai detto veramente cosa fosse quindi sono rimasto particolarmente sentito ed è una realtà anche perché c'è più appunto di esercizi spiegato in cui stava promuovendo novità in questo dettaglio di una vera va bene detto questo passiamo alla prossima presentazione di appello fissa Paolo Sassone Donato Romanti presenta Donato Romanti che sta in Torino e il titolo è il pernotto gravità di giallo urbano piccato e banderato in un operato casale stato attuale e nuove scoperte avresti 20 minuti farò un segnale 20 minuti un segnale buongiorno 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 a tutti anche a nome di Alfredo Frix e di Paolo Sassone io vi parlerò degli infernot e delle cave abbandonate del Monferrato Casalese scusate avevo fatto una cosa sbagliata no no non vado col click ho cliccato per andare giù tutto questo ah vado dalla freccia chiedo scusa e posso comunque togliere per quello fino sotto così no no e poi se non mi copri no volevo togliere questa scritta qui vabbè lasciamo lì allora freccia questi questa grazie l'area studiata è tra le colline parte delle colline del Monferrato al centro del Piemonte e le formazioni interessate coprono intervalli separati dal l'Origocene al Mioce e infine al Pliocene cosa sono gli infernot in dialetto un ferrino vorrebbe dire piccolo inferno penso che più o meno si intuisca sono delle piccole cantine scavate completamente nella roccia al di sotto di abitazioni edifici e prive di finestre ricavate con poi rifinite in vario modo e spesso anche con scansie ripiani artisticamente scavati l'ambiente era predisposto per la conservazione di vini pregiati proprio perché visto questo scavo nella roccia l'ambiente era a temperatura stabile e anche un'umidità controllata il a seconda delle aree gli infernoti sono stati scavati in formazioni diverse come ho detto prima possono essere terreni oligocenici miocenici o pliocenici gli infernoti sono i più antichi sono datati in base a delle date lasciate sulle pareti al settecento ma nel corso della prima metà del novecento soprattutto partire dalla diciamo anni 1950 60 70 sono stati praticamente abbandonati e trascurati con gli ultimi decenni del secolo invece sono stati rivalutati come elementi caratterizzanti il territorio insieme alla pietra da cantoni che è la formazione geologica più importante dell'area di cui parlerò in seguito contemporaneamente in questi anni è avvenuta anche la fonda con questa sensibilità maggiore per gli elementi del territorio si è avuta la fondazione dell'ecomuseo della pietra da cantoni che ha accelerato anche il processo di rivalutazione dell'infernoto e questo si è rivalato veramente un elemento vincente per il riconoscimento del sito nel sito unesco istituito dal 2014 che comprende Langeroero e Monferrato è fatto da vari siti separati attualmente molti infernoto sono stati restaurati e sono inclusi in itinerari turistici o in eventi e manifestazioni locali e continuano ad aggiungersi nuove acquisizioni perché molti hanno stati praticamente magari coperti da macerie o comunque ignorati e oltre proprio a infernota anche altre strutture ipogee vanno tenuti presenti però ovviamente anche i problemi di stabilità di queste strutture molti non sono agibili oggi per fratture crolli infiltrazioni d'acqua e possono dare dei problemi anche che per il costruito sovrastante in quanto alcuni vanno a finire con i loro scavi al di sotto delle vie dei paesi o di altre abitazioni l'altro elemento importante dell'area come vuoti ipogee è quello delle cave in sotterranea che sono delle grandi strutture legate alla coltivazione della pietra da cantoni l'attività estrattiva è terminata praticamente con il 1960 oggi non sono utilizzabili per problemi statici ma che vanno valorizzate e ovviamente monitorate e valorizzate adesso vi farò vedere alcuni esempi degli infernoti suddivisi diciamo stratigraficamente a seconda della formazione in cui sono stati scavati la formazione di Cardona è la formazione di base del bacino del centro del bacino terziario piemontese è data da elementi abbastanza grossolani con la base conglomerati e che passano poi a renari e anche a marne con intercalazione renacea quindi gli infernoti scavati in questa formazione sono spesso abbastanza grezzi dovuti proprio al litotipo la formazione più importante in cui troveremo anche molti infernoti è quella della pietra da cantoni che prende il nome proprio da questi cantoni in dialetto o cantoni dei blocchi sui 20-30 kg di peso che venivano utilizzati per le costruzioni della zona o anche per la produzione di mate la pietra da cantoni nella parte inferiore è indicativa di una piattaforma carbonatica rodalgale in cui si possono vedere dei vari sottoambienti in questa diapositiva è rappresentata una mappa con la distribuzione della pietra da cantoni a sud di casale monferrato questo è il corso del Po la pietra da cantoni è parzialmente affiorante costituisce lo zoccolo di molti paesi della zona ma in maggioranza è sepolta dai sedimenti più recenti o dai coltini qui possiamo vedere e descriviamo poi le varie facces di questa piattaforma rodalgale in questa immagine vedete il fronte dell'attuale fronte di cava abbandonata di una antica cava in galleria nella frazione uviglie di Rosignano Monferrato in cui si può vedere la successione dalla piattaforma rodalgale più antica alla marna calcarea di piattaforma parzialmente rodalgale ma già un po' più profonda una piattaforma esterna e infine i sedimenti di mare più profondo dati dalle marne di mincengo che costituiscono il termine superiore del gruppo della pietra da cantoni in questa successione noi abbiamo diverse cavità e pogee una molto particolare è quella del corridoio che porta al pozzo e il pozzo stesso scavato sotto il castello di San Giorgio scavato probabilmente già prima dell'anno 1000 questo pozzo e il corridoio attraversano una successione di marne grauconitiche in cui hanno intercalato un banco abbastanza potente a rodoliti che è stato interpretato come risedimentato scusate io noi nelle diapositive non abbiamo considerato un aspetto probabilmente vi spiego un attimo anche cosa sono le rodoliti probabilmente magari tutti lo sapranno scusate se magari ripeto queste cose il termine rodolite è stato creato prendendo basandosi su termini greci vorrebbe dire pietre rosse sono delle concrezioni algali sembrano dei ciotoli più o meno grossi tondeggianti ma sono stati in realtà formati dall'azione di alghe calcare rosse che vivevano ovviamente nella zona fotica venivano smosse dal moto ondoso e quindi davano questa forma appallottolata molto facilmente da eventi di tempesta o da altri eventi che potrebbero essere anche eserenti sismici questi banchi venivano rimobilizzati e deposti a maggiore profondità e sono una caratteristica proprio di quest'area che però troviamo rodoliti anche in altre parti del Monferrato dell'Alto Monferrato e rodoliti anche costituiscono per esempio il perlato di Coreno in area appunto dell'Italia centrale dei infernot artisticamente anche pregevoli sono stati scavati nell'arenaria calcare riccamente fossilifere con anche frammenti di aggerosse e di rodoliti qui vedete gli esempi dell'infernot scavato sotto quello che è l'edificio attuale dell'ecomuseo della pietra da cantoni come potete vedere oltre ai ripiani in alcuni infernot abbiamo anche dei tavoli completamente scavati nella roccia queste cantinotte diventavano dei centri di cene conviviali con una buona bottiglia di vino qualche fetta di salame e l'ambiente era a temperatura buona diciamo quindi per le serate d'inverno erano ideali ah sudate l'ho rifatto ho schiacciato quello sempre nella pietra da cantoni ma nella parte già di piattaforma esterna anche al cario marnosi sono scavati altri infernot per esempio uno dei quelli più pubblicizzati più visitati è quello è uno di ozzano non ferrato in cui vedete anche scavati proprio dei vani monobottiglia e questi sedimenti sono ricamente fossiliferi ricchi soprattutto di microfossili che sono quelli che ho studiato io soprattutto nella parte meridionale dell'area noi troviamo anche degli infernotte scavati in terreni molto più giovani datati al più ocene e precisamente negli intervalli arenacei della parte superiore delle argile azzurre si sono deposte nel bacino dopo la crisi messiniana inizialmente sono dei sedimenti molto fini ma poi nella parte alta con il progredire della regressione abbiamo anche queste bancate arenacee infine per quanto riguarda la distribuzione degli infernot noi troviamo alcuni anche nelle sabbie di asti che costituiscono sedimenti appunto dati da arenarie più o meno siltose le sabbie di asti chiudono la sedimentazione marina nella piemonte centrale e anche in questi casi nelle pareti dell'infernotte possiamo vedere delle strutture da corrente e da motondoso gli infernotte si interessano quindi formazioni di tipo diverso ma anche le associazioni a foraminiferi differiscono ovviamente per i biomarkers e strati grafici ma anche complessivamente come aspetto generale nelle formazioni del miocene noi abbiamo associazioni abbondanti ricche con molte specie e dominate da foraminiferi plantonici quindi di mare aperto e con bentonici anche di fondali profondi al contrario nelle formazioni le fotografie rappresentano alcune di queste specie profonde invece nelle formazioni del piocene gli infernotte di ferrovi di terruggia le microfaune sono molto più scarse e indicative di acque molto basse tra l'infra litorale e al massimo infracirca litorale in questa immagine costruita utilizzando più fogli geologici con i diversi colori sono stati individuati i diversi infernot e potete vedere come in pratica questa distribuzione illustra la storia geologica del Piemonte in quest'altra mappa sono state riportate le ubicazioni delle antiche cave di Pietro da Cantoni concentrate distribuite in tutta l'area e sono delle cave sia a cielo aperto sia in sotterranea in questa immagine satellitare della zona intorno a Rosignano Nonferrato e a Cella Monte penso che possiate intravedere come alcune di queste cave siano state ubicate in prossimità o in realtà anche all'interno di paesi L'insieme di infernote e distribuzione delle cave di Pietro da Cantoni sono stati gli elementi individuati come principali per il riconoscimento dell'area nel sito unesco con una parte centrale corso la zona di eccellenza con dei parametri molto rispondenti alle richieste unesco e una più ampia zona cusceletto la buffer zone in cui ci deve essere aspicato un adeguamento ai parametri della core zone in questi anni sono stati fatti diversi progetti sulle cave e sui sui varie ipogei della zona con sono state fatte azioni di censimento rilievi dei vuoti monitoraggio alcuni interventi e proposte di interventi sulla criticità geostatica e proposte di riutilizzo qui a fianco purtroppo non sarà preferamente leggibile ma comunque questo è un esempio di una scheda che è stata proposta per la classificazione dei vari ipogei del Monferrato Casalese un rilievo molto dettagliato è stato fatto su le cave abbandonate della frazione colma di Rosignano Monferrato con cancro delle superfici e dei vuoti le cave campagnola le cave valleggia ma soprattutto quello delle più importanti e meglio conservate cave angelino di cui vedete qui anche il prospetto queste cave si presentano con problemi di staticità diversi crolli per cui al momento non sono agibili ma sono estremamente suggestive presentano delle vaste sale in cui il tipo la regolarità geometrica dei tagli per ricavare i conci o canton ha prodotto delle superfici a scalinata per i cavimenti o a scalinata inversa per i soffitti il nuovo rinvenimento o comunque il riconoscimento di altre strutture ipogee è tuttora in corso e una di queste recentemente riacquisita è una ghiacciaia a sala monferrato datata nel 1861 scavata nella pietra cantoni ma rivestita per isolamento e igiene con mattoni in conclusione si fanno qui alcune proposte che sono quelle che vengono anche riportate agli enti locali dagli autori di valorizzazione geoturistica e culturale di questi ipogee il completamento del censimento degli infernot che è una realtà oramai con una possibilità di essere conosciuta a livello mondiale con il riconoscimento UNESCO un censimento che è indispensabile anche per la sicurezza geostatica sia degli infernot che del costruito circostante una valorizzazione turistica culturale delle cave Angelino con monitoraggio dei problemi statici e possibili soluzioni e progettazione di un percorso del luogo proprio come Geosito è stata proprio anche negli interventi precedenti è stata messa in risalto la ricchezza che può portare anche questa acquisizione di vuoti per il turismo per la conoscenza del territorio per il richiamo culturale e proprio turistico quindi per questo si propone anche la definizione di un itinerario geoturistico a livello territoriale con la ideazione di un percorso che sia in parte in superficie e in parte in sotterranea articolato in fermate tematiche in modo da mettere in risalto quelle che sono le eccellenze e le particolarità del territorio dai punti di vista culturali pasaggistico geologico e anche correlato con quelle che sono le possibilità gastronomiche dell'area grazie a tutti per l'attenzione questi sono i campioni grazie anche per la prestigità abbiamo tempo per un paio di così del pubblico che ci sono venite a visitare l'inferno ah sì grazie prego scusate mi sono perso positiva a spiegare la mia della campione e non ho detto ho detto semplicemente che la pietra da cantoni prende questo nome proprio perché venivano estratti i cantoni nella descrizione della formazione ho parlato di vediamo se riesco a tornare indietro troppo veloce ecco praticamente questa immagine illustra la pietra da cantoni la pietra da cantoni è in realtà un gruppo della pietra da cantoni cioè non è più di una formazione con la pietra da cantoni tucu diciamo che è una va da arenaria a marna calcarea è datata dal burdigaliano superiore approssimativamente direi intorno ai 18 milioni di anni fa partiamo si depone in un ambiente un po' più profondo di piattaforma esterna nel l'anghiano superiore e termina con delle vere proprie marne argillose che sono le marne di muncengo che sono a destra nella nella cava della fotografia che sono datate del serravagliano quindi un materiale molto ricco di carbonato di calcio nelle parti utilizzate per i cantoni perché avevano un'ottima coesione nelle parti invece più argillose venivano ricavati ancora dei cantoni i cantoni presentavano più grigi che gialli diciamo e che avevano però un maggiore quantitativo di marne e quindi erano meno pregiati dal punto di vista edilizio non li conosciamo almeno dal medioevo perché per esempio nel duomo di Casale Monferrato c'è la pietra ci sono i blocchi di pietra da cantoni probabilmente era utilizzata già anche prima beh posso togliermi una curiosità proprio da ignoratissimo io ero convinto che questo tipo di strutture è nascesso in depositi teneri quindi facilmente lavorabili invece qui vediamo che si scavano anche rocce difficili da scavare in realtà venivano scavate in sotterranea preferibilmente proprio perché nel sottosuolo la pietra cantoni è umida quindi è un po' bagnata e si taglia facilmente qui praticamente c'erano anche erano dei pozzi o nelle sale delle cave angelino queste cave sono abbastanza in profondità una decina di metri sotto il piano campagna qui la roccia era tenera era morbida quando veniva tenera quando veniva lavorata dopodiché veniva portata in superficie veniva fatta asciugare e allora diventava più consistente è una roccia però che è lasciata all'esterno nelle nostre zone non quest'anno per esempio ma sottoposte a gelo si disgrega facilmente quindi nel passato tutti gli edifici in pietra da cantoni e venivano costruiti quando venivano costruiti bene venivano costruiti su una base uno zoccolo di mattoni che isolava perché è egroscopica questa roccia poi i cantoni e poi veniva intornacata soltanto il lato a seconda dei paesi che veniva meno investito dalla pioggia poteva essere lasciato libero oggi è venuto di moda diciamo grazie anche alle resine impregnanti scortecciare gli edifici che si sa costruiti in modo estetico con la pietra da cantoni impregnare le pareti con queste resine e lasciarle a vista perché danno un colore giallo caldo molto gradevole e molte volte anche un gioco coloristico con il rosa rosticcio del mattone perché spesso ci sono intervalli di cantoni gialli con livelli di mattoni rossi per cui anche un effetto estetico molto gradevole grazie aspettiamo di venire presto ora vi dobbiamo un altro per dare la parola a Cristina anche te diamo la parola a Cristina per l'uso della scritta di Lugati che ci porta a un salito buongiorno io sono il servizio generale della società geografica vi chiedo scusa per il ritardo che sono arrivata ma sono rimasta intoppiata nel traffico quindi venendo da Roma immagino che possiate capire volevo innanzitutto ringraziare il professor Gisotti mio caro giuseppe con il quale insomma collaboriamo da tanti anni quindi noi con il giuseppe ci conosciamo da tanto tempo quindi questa è un'altra delle cose interessanti di Giuseppe Conistra il consiglio ha deciso di organizzare insieme a noi presso la nostra sede per cui è un'attività che rientra pienamente nella divulgazione e nella conoscenza comunque di varie sfaccettature della geografia magari spesso si pensa che questa sia la casa della geografia soltanto della geografia storica in realtà non è così qui cerchiamo di ampliarci cerchiamo di essere interdisciplinari più possibile proprio perché è importante non solo per i giovani ma per tutti fare conoscere che ci siamo e che ci occupiamo di tantissimi tempi e quindi la traduzione che sono veramente molto molto ampia quindi ringrazio Giuseppe la Sigea l'ISPRA per questa bellissima collaborazione mi fa piacere che siete sempre tanto numerosi vuol dire che le attività che vengono organizzate sono di valore scientifico molto alto quindi questo è importante anche per richiamare personalità ma anche persone comuni semplici conali semplici appassionati che credono nelle attività che noi svolgiamo quindi benvenuti scusatemi ancora per l'unità dobbiamo continuazione di lavori e veramente grazie tanto a Giuseppe Giuseppe Gisotti oramai per me è diventato proprio fondamentale li voglio proprio tanto tanto bene penso che sia una persona veramente speciale caro amico della società geografica caro amico della geografia penso che vedi veramente tanto per cui un aplauso a Giuseppe grazie approfitto per dire che è un peccato che questi eventi vanno sempre pieni mi dicono che non si riesce mai a 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 c'è c'è molta richiesta di quanti posti purtroppo per motivi di sicurezza noi più di 90 persone qui dentro non possiamo ospitare questo è proprio una è un ingegnere della sicurezza che è molto rigido perché insomma cosa è successo qualcosa sono responsabilità noi saremo contenti di poter ospitare tutte le persone magari la prossima volta vediamo se si può mettere anche un televisore nella sala del consiglio quindi altre persone sedute che seguono giù altre sedie le potremmo mettere qui vediamo un pochino come organizzarci però la capienza di questa sala è 90 posti a sedere per mettere le persone in piedi mi mette paura perché l'ingegnere si raccomanda nessuno deve stare in piedi quindi se trovate posti mi prego sedetevi ecco quindi è solo questo però noi siamo veramente contenti onorati e poi queste attività scientifiche culturali importanti sono fondamentali proprio per la vita della società geografica questo va detto insomma la società geografica di queste attività quindi più sono di spessore scientifico e meglio è per noi e per tutti non si può mandare un segnale no? è la casa della geografia quindi noi siamo aperti a tutto ciò che ruota intorno a questo tema che può essere anche una tua ricerca si fanno conferenze sulla migrazione ci sono tanti temi i femminicidi cioè noi tocchiamo veramente tantissime tematiche e allora ogni volta che qualcosa che porta persone che crea interesse noi siamo veramente contenti lo scopo della società geografica è valorizzare il patrimonio farsi conoscere e diffondere e di più dalla geografia a tutti i livelli dalle scuole orientali fino alle superiori fino all'università quindi voi magari non conoscete bene la nostra vita ma la nostra è una vita molto intensa facciamo tantissime visite guidate abbiamo l'alternanza scuola-lavoro abbiamo i ragazzi del servizio civile le visite guidate i laboratori didattici per le scuole abbiamo laboratori per bambini che vanno dalla prima alimentare fino alle superiori quindi stiamo cercando di allargare sempre più la conoscenza e soprattutto di attivare i giovani quindi se diventiamo sempre più anziani qui dentro già siamo anziani abbiamo più di 150 anni la solita geografica ha 153 anni dobbiamo aprirci sempre più al mondo dei giovani e quindi cerchiamo di farlo nella maniera più semplice possibile quindi i laboratori le officine adesso la prossima settimana ci sarà abbiamo vinto un progetto con il ministero della difesa che si chiama officine geografiche e ci sarà una giornata dedicata proprio a laboratori didattici per ragazzi delle scuole in medie superiori il vero in generale torna bene il presidente del sud geografico militare quindi noi cerchiamo di farlo tutto per cui benvengono tutte le attività che possano allargiarsi soprattutto a portare i giovani quindi venite frequentateci frequentate la nostra biblioteca diventate soci dateci una mano perché la cultura purtroppo va su tagli continui quindi noi abbiamo bisogno di una mano costante guardate che mandare avanti questo palazzo non è uno scherzo non è una cosa semplice soltanto di spese di dipendenti la manutenzione non è un gioco quindi più persone noi vediamo qui più siamo contenti vuol dire che la nostra mission comincia a raccogliere dei risulti grazie a voi buon lavoro buon lavoro questo è un momento questo è un momento di evasione geografica ci spostiamo di là del mare in Medio Oriente per raccontare un'esperienza che nasce però da diciamo da una attività internazionale da parte del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia di cui le attività giordane sono solo una parte abbiamo anche altri colleghi che si occupano di quello che si chiama diciamo noi definiamo la conservazione geologica dei beni culturali di cui siamo direi un punto di riferimento per diverse istituzioni anche internazionali come l'UNESCO questa per esempio è un'esperienza che stiamo conducendo dal 2009 la messa in sicurezza del SIC di Petra tutti conoscete immagino Petra il canyon d'ingresso e da ben direi sette anni ci stiamo dedicando prima con un'analisi di studio poi con un'implementazione sempre più complessa articolata e difficile considerando sia le condizioni del sito dal punto di vista dell'isfruttamento turistico e anche delle difficoltà che si incontrano e questa è l'ultima fase siamo in l'ultima fase la quarta fase del progetto finanziato dalla cooperazione italiana che prevede appunto il consolidamento di grandi blocchi questo è un esercizio che abbiamo fatto un piccolo esercizio che abbiamo fatto l'anno scorso con degli alpinisti italiani altre sempre a Petra stiamo lavorando sul tempio degli Ioni Alati anche qui abbiamo realizzato delle indagini geofisiche geologiche geotecniche per la conservazione di questo che è uno dei tempi più importanti anche se poco conosciuti dal pubblico con in cooperazione con il dipartimento delle antichità della Giordania e il centro americano per il Medio Oriente altri due interventi molto importanti in collaborazione con Enea e con il CNR italiano sempre sotto legge dal dipartimento dell'antichità sono la conservazione dell'ultima torre stilita rimasta in piedi al mondo quella di Umarassas un sito unesco che vedete qui sulla sinistra anche qui cercheremo di applicare delle tecnologie di mitigazione attraverso tecnologie italiane per la dissipazione delle onde sismiche in quanto questa è una torre che è in precario stato di equilibrio anche a seguito dei terremoti storici che l'hanno danneggiata e il sito del castello di Carac il castello crociato che da diversi anni è oggetto di studi e di interventi per il consolidamento del lato ovest soggetto a movimenti franosi a deformazioni legate dei movimenti franosi in questa parte del versante e questo è un altro intervento molto recente in collaborazione con il professor Valerio Massimo Manfredi con studi geofisici e geotecnici per la determinazione delle potenzialità archeologiche in un'area non ancora esplorata nei pressi di Gerash quindi con questa premessa ecco perché noi stiamo trattando questo oggetto un oggetto che si trova un ipogeo che si trova all'interno del sito storico di Beit Ras Beit Ras è un soborgo di Irvid che è la terza città più grande della Giordania che in questi ultimi anni ha subito un'esplosione demografica e anche urbanistica devo dire purtroppo a causa della crisi siriana che ha in quanto siamo nei pressi del diciamo al bordo del confine siriano e questa è un'area dove c'è stato appunto un afflusso di rifugiati a partire dal 2010 fino ad oggi Beit Ras non è altro che l'antica Capitolias una delle Decapoli di dieci città del Medio Oriente che costituivano una lega culturale più che politica il cuore delle città che poi si sono sviluppate a seguito della conquista Traianea nel 106 e che si trovavano appunto le città più importanti della parte dell'imes romano l'imes più orientale come avviene la scoperta della tomba come spesso succede non solo in Giordania ma vedo anche in Italia accade in maniera del tutto occasionale attraverso uno scavo un'operazione di scavo per la posa in opera di un acquedotto fortunatamente questa è un po' l'eccezionalità si decide di bloccare gli scavi di avvertire il dipartimento delle antichità che interviene questa è un'immagine con il direttore delle antichità e la ministra Lina Annab l'allora ministra della cultura e turismo i quali decidono di chiudere il sito e di implementare un'azione un action plan diciamo che possa prevedere purtroppo diciamo all'inizio l'immediato sfruttamento turistico di questa di questa tomba con il tentativo che politicamente è in atto di spostare l'attenzione dai siti più famosi che si trovano perlomeno nella zona centrale e meridionale come Petra Gerash Guadirum e altri siti verso il nord che possiede una ricchezza straordinaria di siti culturali attualmente non ancora né esplorati né sfruttati turisticamente quindi a valle di questa di questa diciamo scoperta innanzitutto va detto che non era un'area sterile dal punto di vista archeologico la tomba che è stata trovata nel 2017 è qui questa è una scuola nel 1973 era stata rinvenuta un'altra bellissima tomba affrescata di cui fortunatamente si conserva un libro con tutta l'agricimentazione tomba che attualmente è chiusa nell'80 si dice ma non abbiamo informazioni dettagliate diciamo dal punto di vista documentaristico che sia stata trovata un'altra tomba durante lo scavo degli spogliatoi di questa scuola di questo complesso scolastico maschile e subito dopo la scoperta della tomba dell'ipogeo non la chiamiamo tomba ma in realtà nasce per un altro scopo diciamo così viene scoperta invece questa tomba nel gennaio del 2018 che viene immediatamente richiusa in quanto all'interno di un complesso privato una struttura privata un terreno privato le leggi diciamo giordane sono molto diverse da quelle nostre per cui i privati hanno la proprietà anche di quello che c'è sotto quindi si decise di chiudere e di lasciare le cose come erano questa è un'immagine del teatro romano come vedete è un teatro molto bello si trova collocato in quest'area un'area che storicamente costituiva il cuore della Decapoli di Capitolius nel dicembre del 2016 viene organizzato un primo assessment una prima visita con il direttore regionale della cooperazione americana che decide di finanziare questo progetto un progetto a cui partecipa ovviamente anche l'ISPRA e con l'istituto superiore per la conservazione e il restauro e i due istituti culturali americano e francese con il CNRS francese con leggi anche del Dipartimento delle Antichità e da aggiungere questo progetto viene finanziato con un programma che si chiama sostanzialmente sostenibilità dei beni culturali attraverso il coinvolgimento delle comunità locali in questi ultimi anni purtroppo si parlava di scarsità di fondi della cultura avviene anche in altre parti del mondo in questa parte del mondo gran parte dei fondi vengono donati in questi ultimi anni non più per scavi di interventi di pura natura archeologica ma più che altro si utilizza lo strumento del training del trasferimento delle conoscenze nel capacity building e l'empowerment quindi la partecipazione e il rafforzamento delle capacità locali come strumento per poter poi intervenire anche sui beni culturali l'ipogeo si presenta con pareti e soffitto completamente affrescati la presenza di un sarcofago e altri elementi che fanno identificare questa struttura come una struttura apparentemente funeraria in realtà non nasce come una struttura funeraria lo vedremo anche attraverso l'iconografia non ci sono tracce di elementi iconografici che fanno pensare all'aldilà ma è il racconto della storia della costruzione di Capitolias dopo la conquista romana tant'è che questo ciclo di Affreschi è stato considerato il primo fumetto della storia finora ritrovato anche per la presenza di 64 epigrafi che raccontano gli episodi della costruzione la struttura è più o meno caratterizzata da una camera centrale di pianta rettangolare in 30 metri quadrati con un soffitto posto a circa 3 metri dal piano con due camere laterali che invece sono state identificate come camere funerarie questa è la parte centrale qui vedete l'iconografia una parete ovest questa figura rappresenta il fondatore di Capitolias che pianta una pianta di palma una palma che costituisce un po' come il solco dell'aratro per i romani per le città romane l'inizio della costruzione di una città in questa parte del Medio Oriente questa è la parete sud in cui c'è un'apertura secondaria infatti gli affreschi vengono interrotti per ricavare altre due camere che poi verranno utilizzate come camere funerarie in epoca successiva questa è la parete nord con la trincea il cunicolo di entrata causato dallo scavatore e questa è la parete est quella che offre più indicazioni anche dal punto di vista della conservazione la parete est è caratterizzata da un grado un degrado strutturale molto avanzato presenta l'ingresso del dromos quindi il corridoio finale la parte finale con una porta costruita successivamente per far entrare per permettere l'entrata del sarcofago che aveva delle dimensioni molto più grandi rispetto all'entrata originaria queste sono le camere secondarie sono delle camere funerarie il progetto nella sua fase iniziale dal 2017 al 2018 prevede appunto innanzitutto uno studio perché a seguito di quella valutazione che era stata quella missione a cui è seguita una missione tecnica in cui sono state date delle raccomandazioni molto precise soprattutto da noi dell'ISPRA innanzitutto cercando di impedire in qualche modo lo sfruttamento turistico immediato cosa che si voleva fare già realizzando un piccolo visitor center staccando i biglietti e facendo entrare le persone all'interno quindi per fortuna la creazione del consorzio ha permesso di bloccare questa iniziativa e di portare avanti tutta una serie di studi condotti dai vari enti questo è il cantiere che fu realizzato immediatamente dopo la scoperta della tomba questa è una trincea realizzata anche questo purtroppo immediatamente dopo per cercare di intercettare il DROMOS cosa che non ha fatto bene in generale perché ha incrementato il contenuto di umidità e la percolazione di acqua all'interno della camera principale qui c'è l'entrata attuale e questi sacchi sono stati messi anche a seguito delle nostre indicazioni in quanto questa strada scusate questa strada è inclinata a un'inclinazione verso sud con acqua scorrente soprattutto in occasioni anche se la Giordania è un paese arido questa parte del nord comunque soffre di eventi di precipitazioni molto intense l'analisi fotogrammetrica è stata realizzata dai francesi dell'IFPO quindi qui vedete una parte est caratterizzata da una presenza di fratture molto persistenti e anche spaziate brevemente spaziate quindi elevata densità questa è quello che rimane della rappresentazione dello zodiaco di molto bella mentre la parte ovest è completamente sana anche dal punto di vista strutturale l'analisi iconografica è stata realizzata dal Consiglio delle ricerche nazionale delle ricerche francese che ha vettorializzato tutte le immagini ha raccolto anche con l'Istituto Centrale di Restauro tutti i frammenti che sono attualmente erano attualmente presenti sulla diciamo alla base dell'ipogeo con un tentativo di ricolmare le lacune in vista di un restauro conservativo e questa è un'immagine di alcune delle epigrafi che sono state trovate con delle frasi abbastanza diciamo comuni tipiche di un operai di cantiere che si raccontano degli episodi molto simile questo a quanto raccontato dalle scritte che troviamo alla Basilica inferiore di San Clemente a Roma che rappresentano un po' la prima espressione del volgare italiano e quindi volgare devo dire che ce n'è parecchio anche detto dai nostri colleghi francesi il restauro conservativo soprattutto il consolidamento dell'intonaco di base è stato realizzato dai colleghi dell'istituto superiore per la conservazione e il restauro che hanno installato anche un data logger per il monitoraggio in continuo delle condizioni di temperatura e umidità per quanto riguarda i nostri studi la geologia dell'area è caratterizzata da ampi affioramenti di calcari una formazione eucenica cosa molto importante è la presenza di calcari gessosi quindi calcari molto teneri alternati a strati molto duri sia di calcare che di livelli di selce che hanno costituito potevano costituire il tetto di eventuali ipogei mentre i calcari gessosi come sappiamo sono facilmente scavabili a mano la planimetria dell'area quindi la topografia rappresenta le due trincee questa è la pianimetria della tomba qui abbiamo l'area della scuola queste sono le due trincee che ci hanno permesso di recuperare le caratteristiche locali geologiche quindi al di sotto dello strato di sottofondazione della strada abbiamo livello terra rossa e il tetto dei calcari che è un tetto molto alterato a cui seguono 30-40 cm che costituiscono di calcari che è duro molto resistente e costituisce la volta dell'ipogeo sono state recuperate anche informazioni sulla densità e caratteristiche presenza densità e caratteristiche degli strati con delle discontinuità sia all'interno dell'ipogeo che all'esterno per confrontare eventuali discrepanze quindi abbiamo analizzato gli affioramenti più vicini erano quelli del teatro e quelli posti vicino la scuola questo è il rilievo delle discontinuità in cui si vede un orientamento grossomodo nord-ovest sud-est delle fratture con immersione ortogonale a queste due direzioni e una densità molto elevata nei pressi del dromos anche perché questo costituiva l'antico bordo topografico morfologico attualmente coperto dall'urbanizzazione recente queste tecniche hanno permesso di definire attraverso delle classificazioni come Q-System RMI il grado di compattezza del materiale che è molto povero quindi la qualità geomeccanica molto povera con questo è stato molto utile per diciamo trasmettere come informazione al Dipartimento dell'Antichità la necessità di realizzare degli interventi di consolidamento per poter poi permettere l'eventuale ingresso dei visitatori anche se questo genere di approccio è un approccio che noi cerchiamo come consorzio abbiamo cercato di evitare suggerendo per esempio la visita virtuale quindi la realizzazione di un museo di una struttura al di sopra della tomba con una visita virtuale quindi la restituzione e la visione dell'iconografia delle caratteristiche della tomba attraverso i dati che sono già stati raccolti per quanto riguarda l'indagine geofisica anche questa molto molto interessante è stata realizzata nell'aprile 2017 2.900 metri di lunghezza totale di stendimenti georadar con un'antenna da 450 MHz la quale ci permetteva di poter raggiungere una profondità tale che potesse intercettare eventuali anomalie riconducibili a cavità archeologiche di origine archeologica purtroppo la presenza localmente la presenza di umidità anche le precipitazioni intense e la saturazione del terreno hanno impedito soprattutto attorno alla tomba di poter ricostruire diciamo di poter andare a una profondità sperata alcuni dati due linee questa è una linea est-ovest come vedete questi sono gli elementi il soffitto della cellula il passaggio all'architrave al rivestimento della parte esterna del dromos questo è il soffitto ma la cosa interessante è che se questo è il tetto della cavità noi intercettiamo una possibile anomalia da diciamo esplorare successivamente una linea invece ortogonale ci restituisce sostanzialmente gli stessi elementi in questo caso noi siamo stati in grado di correlare le tracce del radargramma con la stratigrafia locale quindi i dati sono molto precisi e qui viene intercettato sostanzialmente un livello che può essere associato ad un pavimento tant'è che la successiva escavazione archeologica che ha rimosso il detrito ha rinvenuto questo livello basale ed infine questi sono dei radargrammi realizzati lungo il campo sportivo della scuola dove erano state rinvenute due torbe anche qui abbiamo due anomalie in questo caso purtroppo non abbiamo vincoli stratigrafici cioè non abbiamo la possibilità di correlare localmente questi dati con un log geologico che ci permette appunto di interpretare senza ombra di dubbio i dati che ci restituisce il georadar in questo caso a seconda dell'interpretazione per esempio se questo è il tetto dei calcari ovviamente abbiamo tre anomalie che possono essere ricollegate a tre target potenziali se questo invece è il tetto dei calcari qui vediamo che le anomalie vengono collocate al di sopra quindi questo è un falso target mentre questo invece rimane sempre un target interessante in quest'area è stato possibile anche ricavare un 3D quindi una ricostruzione 3D in cui questa anomalia posta al centro del campo sportivo chiamiamolo così fornisce ha una sua continuità sia laterale che in profondità quindi è un altro elemento molto interessante da suggerire per una futura esplorazione qui abbiamo invece ricostruito la geometria est-ovest del sottosuolo ipotizzando la conclusione l'intercettamento diciamo del dromos a circa due metri due metri e mezzo dall'attuale entrata una seconda fase prevede la realizzazione sostanzialmente di un progetto un progetto di fattibilità per l'utilizzo turistico ma approfittiamo di questo per continuare le nostre le nostre investigazioni soprattutto a supporto dello scavo archeologico e implementando un piccolo sistema di monitoraggio manuale quindi tecniche molto semplici sostenibili economiche fattibili attraverso l'utilizzo di fessurimetri questa è una prova per sia per mostrare agli archeologi del Dipartimento dell'Antiquità il tipo di materiale che utilizzavamo e anche le colle se erano diciamo compatibili con i loro materiali e abbiamo purtroppo non era facile installare i fessurimetri mentre più facile è stato installare diciamo i dischi d'acciaio che purtroppo alcuni di questi non sono rimasti in piedi dopo pochi giorni proprio per la presenza di questo livello molto alterato e gessoso che impedisce la tenuta a lungo termine in questo caso noi per dirla in inglese abbiamo utilizzato una tecnica di problem solving che in italiano significa noi siamo bravi ad arrangiarci abbiamo comprato delle viti delle normali viti e qui si vede Francesco che con un trabano a mano posiziona queste viti a testa con la testa a croce che si adattavano benissimo ai nostri scopi questa è la proposta per la realizzazione di una trincea esterna per intercettare il dromos questa proposta è stata sostanzialmente accettata anche a valle scusate anche a valle di un'analisi di stabilità che assicurasse appunto la stabilità sia sotto spinta sismica per la presenza di acqua nel terreno garantisse la stabilità a lungo termine della struttura e infine come considerazioni conclusive potete leggere quello che abbiamo realizzato la cosa più importante è la continuazione diciamo l'applementazione ulteriore di indagini geolettriche questa volta utilizzando la geolettrica oltre al georadar come diciamo ulteriore strumento per complementare le indagini indirette in un'area più ampia compresa tra l'ipogeo attuale e il teatro romano supporto tecnico alle attività di scavo da parte degli archeologi per intercettazione del dromos e le attività di training formativo che fanno parte comunque di molti progetti attualmente in essere in Giordania dove è necessario anche trasferire quel poco che sappiamo quello che riusciamo a fare anche alle autorità locali tecnici locali e agli studenti universitari grazie per l'attenzione è il primo secolo del 106 Traiano conquista diciamo questa zona del Medio Oriente successivamente vengono costruite queste città che avevano già comunque già esistevano storicamente e vengono realizzate contemporaneamente ce lo racconta anche Seneca ma non in termini lusinghieri perché diceva anche a Roma c'era la moda di realizzare queste strutture sotterranee per il divertimento per passare il tempo Seneca parlava che diceva che i romani si stavano trasformando in topi e quindi anche questa moda romana viene trasferita in queste città ci sono altri esempi di tombe affrescate in altri luoghi ma mai diciamo generalmente sono tombe nascono come tombe questa è la prima volta che viene invece scoperta diciamo un ipogeo che non nasce come tomba ma nasce come un luogo diverso grazie e con questo passerei alla prossima presentazione Gerdano Osso Francesco Antonio Cuteri Gioettino Lena Maria Vardini che troviamo presenta Francesco Antonio Cuteri io devo presentare la ricerca di conservazione allora andrò prima questa e poi questa qua giù ok prima questa sì sì certo farò bastare ritorniamo ritorniamo in Italia tra l'altro guardavo la la torre di Umara Sass quella la torre dell'Ostilita mi ha fatto venire in mente un ricordo di padre Piccirillo che molto ha lavorato in quei luoghi e che preferiva utilizzare sempre il nome nella versione napoletana Numare Sass perché diceva che era tutto circondato da pietre in quel deserto ritorniamo appunto in da nostri parti partendo partendo da sud presentando questo insegnamento per andare avanti ecco qua l'insegnamento che va un po' di fuori di quello che è il tema specifico che avete scelto di trattare in questo incontro perché naturalmente non siamo in un'area prettamente urbana quindi non interessa cavità che stanno al di sotto di un robusto costruito di età moderna e anche poi contemporanea sostanzialmente si tratta di un'area un po' marginale quindi dove finisce l'abitato inizia l'area di cui parlerò oggi avremmo potuto veramente presentare altre realtà come quella di Catanzaro che somiglia molto a quella di Rieti con queste grandi cave sotterranei il cui utilizzo fu vietato nel 1700 alla fine del 1700 dopo il terremoto nel 1783 dai Borbone perché appunto i documenti lo spiegano bene c'erano forti rischi per il costruito che stava subidivo ci sono altri casi come quello di Stilo ci sono altri casi come quello di Santa Severina ma al momento non disponiamo di una documentazione sufficiente per mettere in piedi un discorso abbastanza credibile o comunque scientificamente più affinabile quindi abbiamo scelto di presentare questa realtà che rientra chiaramente all'interno di un quadro molto denso molto fitto di popolamento rupestre naturalmente la Calabria è diciamo una tacchettina al di sotto sia per quanto riguarda lo studio sia per quanto riguarda le attestazioni rispetto agli esempi più noti della Puglia della Basilicata naturalmente anche della Sicilia però piano piano sta prendendo forma lo studio di questa forma di abitare che naturalmente ha rappresentato una lunga tradizione tradizione che si è conclusa soltanto con i primi decenni del Novecento vedete appunto questa foto scattata a Casabona ci fa vedere ancora come si viveva all'interno di queste grotte tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento quindi un quadro di popolamento molto diffuso e naturalmente nel territorio che ci interessa quello di cui parleremo oggi vedete Zungri che è localizzato appunto tra Vibbo e Tropea è una zona intensamente caratterizzata da queste cavità rupestri molte delle quali sono state esplorate da gruppi speleologici che ne hanno dato notizia in riviste scientifiche i primi che si sono avvicinati allo studio di Zungri di questo insegnamento sono i ricercatori del Museo di Nicotera che nell'83 cominciarono a fare un censimento a recuperare anche dei materiali e anche a spiegare questo nome appunto a cui provenienza dovrebbe essere legata appunto la parola greca che indica la roccia stessa quindi un paese Zungri che ha il nome esattamente della roccia in cui è nato in cui si è formato e poi altri studi come appunto questo fatto del gruppo speleologico Cudinipoli di Cosenza dove sono stati fatti i primi rilievi e al momento attualmente ancora manca un rilievo dettagliato di tutto l'insediamento e questo è uno dei primi problemi che poi si dovrà affrontare in prospettiva quindi la messa in evidenza di queste cavità e normalmente l'insediamento è stato sempre considerato come un insediamento di fondazione medievale quindi in sintonia con quello che era stato osservato in altre aree della Calabria e anche guardando alle regioni di cui prima vi ho parlato e l'insediamento di Zungri rientra anche all'interno di questo censimento che ha visto una mappatura dei principali siti rupestri del Mediterraneo e all'interno di questo volume sono state dedicate appunto alcune tavole con la localizzazione e la messa in evidenza di quelle che sono le caratteristiche di escavazione principali e di quelle che sono le destinazioni di uso degli ambienti che tra un attimo vi mostrerò quindi dei primi rilievi qui ma non esiste veramente un quadro completo vedete non è molto dettagliato non so se riesco ecco qui lo sviluppo si parte dalla fine dell'insediamento di Zungri contemporanea e si scende lungo la valle del Malopera questo è il nome del fiume che scorre che scorre sotto e poi ancora vedete questo primo studio questo censimento ora l'insediamento ricorre nella documentazione medievale di età moderna diciamo quella cinquecentesca soprattutto con il nome di fossi o cavernoli ora cavernoli chiaramente ci rimanda immediatamente a una dimensione di antro quindi di luogo anche preferibilmente dell'abitare il termine fossi già quindi con questa nomenclatura un po' più antica apre già uno spiraglio una lettura diversa anche dell'insediamento che è quella a cui poi mi sono affidato per cercare di capire l'origine quindi vedete questo sviluppo su queste grandi pareti poi nella seconda parte della presentazione vi spiegherò dettaglierò meglio le caratteristiche geologiche e vedete ci sono questi tagli molto molto ampi a cui si affaccia e si associa soprattutto nell'ultima fase di vita dell'insediamento quella post-settecentesca una evidente tasse di costruito quindi di utilizzo della pietra del posto per realizzare dei muri vedete si articolano su livelli diversi sono due tre livelli tenete conto che l'area al momento investigata cioè lo spazio individuato si aggira sui 3000 metri quadri non è grandissimo però è intensamente scavato naturalmente rimane poi da fare altro a monte e a valle perché ci sono naturalmente gli indizi e circa la presenza di altre cavità tutto è scavato alla perfezione non si spreca un millimetro di roccia è straordinario sono trogloditi ma che trogloditi hanno calcolato alla perfezione tutto lo spazio per le scale per gli archi per la raccolta delle acque per i canali per le scale per i forni è tutto calcolato alla perfezione è straordinario non si poteva sbagliare perché poi si sarebbero sacrificati altri ambienti ma tutto questo quando è avvenuto vedete questi sono gli spazi ora se guardate gli ambienti che vi mostro in successione eccoli qua per esempio se uno ha visitato le catacombe di Siracusa ricorderà che il modello è esattamente quello delle grandi cisterne di età greca poi trasformate appunto in luoghi di sepoltura dai cristiani ma in effetti questi non sono altro che dei grandi silos con la forma con il profilo a campana che servivano a conservare appunto il grano quindi un luogo di raccolta di derrate alimentari cioè l'analisi del villaggio dell'insediamento uno studio più approfondito ci ha fatto riconoscere questa prima fase di utilizzo dell'insediamento che non era altro che una grande quantità di contenitori scavati nella roccia per conservare il grano voi sapete che è un metodo antichistico efficacissimo perché il grano una volta sigillato all'interno dei silos cominciava a fermentare mettendo anidride carbonica quindi non c'era spazio vitale per nessuna forma vivente e quindi il grano si conservava perfettamente finché non si riaprivano i silos allora se li guardate con questa racconta ecco qua questo rilevo il posizionamento di questi tre di cui vi sto parlando e insieme a tanti altri che ci sono come questo che è stato poi trasformato addirittura in una calcara e quindi è legato a quella fase successiva di evoluzione trasformazione dell'insegnamento ci rendiamo conto come la vita di questo luogo è molto complessa e ancora tutto da definire allora che cos'era in origine zungri con tutte queste cavità non era altro che un grande deposito di granaglie a disposizione di chi? a disposizione della massa trapeana cioè erano tutti i possedimenti alto medievali a disposizione del patrimonio della chiesa di Roma e successivamente in età bizantina queste cavità con la vicinanza di un castrum importante il castrum di Messiano continuano ad essere utilizzate quindi il cuore dell'insediamento non è altro che questo immenso granaio ma queste cavità non erano altro che delle cavità simili a quelle che sono state trovate in altri insediamenti come il castello di Cleto l'insediamento bizantino di Oppido Vecchio Brancaleone Vecchio e naturalmente c'è una parte bassa invece dell'insediamento dove è come se servisse a raccogliere a drenare tutta l'acqua che scorreva che si raccoglieva da monte avevano pensato a tutto per cui tutta questa massa di silos era isolata e drenata perché alla base della struttura rocciosa avevano scavato dei canali simili ai canat quelli mediterrani quindi per andare a intercettare le sorgenti e vedete che troviamo queste fonti presenti soltanto esclusivamente nella parte più bassa dell'insediamento vi mostro alcune immagini all'interno le casse sono molto articolate erano sviluppate su due piani i piani che sono stati utilizzati vedete si conservavano fino a un decennio fa anche le strutture in legno all'interno e poi sono state appunto tolte e già qui possiamo cominciare a intravedere forse la luce l'ho pensato un po' queste lesioni che vedete già rispetto a questa foto di 5 anni più antica cominciano a manifestarsi e che saranno poi rapidamente oggetto della seconda parte della comunicazione ci sono le mangiatoie ci sono i palmenti ci sono i sistemi per evitare che l'acqua finisca all'interno delle abitazioni quindi veramente è stato tutto modellato e calcolato con perfezione ecco qui un esempio di mangiatoia con nicchie finisco questa prima parte gentilmente può intanto passare all'altra volevo dire che per Zungri e lo affrontiamo adesso molto velocemente nella seconda parte si sta ponendo un problema le piogge intense degli ultimi anni hanno causato veramente una trasformazione di questo luogo intanto pensate che c'è stato un incremento di visitatori a volte le cose sono positive in altre direzioni questo incremento è molto molto negativo perché si è passato da un flusso turistico di mille visitatori all'anno 2000 a 25.000 visitatori all'anno ora immaginate in un posto così piccolo così delicato e 25.000 persone su una scala di roccia su un piano di terra di roccia significa 25.000 volte a scendere 25.000 volte a salire c'è un consumo naturalmente incredibile ed ecco perché ora si tratterà di trovare ma di questo è stata già informata la regione Calabria e ci sono dei tecnici che stanno lavorando un sistema per cercare di arginare di risolvere questo problema vado velocemente alla parte geologica che naturalmente non è quella di mia competenza per cui mi affido perdonatemi alla lettura io sono archeologo e quindi leggo a nome di osso del professore Lena per presentare di salto un po' di immagini perché le abbiamo viste proprio per mettere a fuoco le questioni geologiche dell'area di Zumbi quindi siamo nella zona del Poro una elevazione non eccessiva della Calabria centrale in cui la base geologica è formata da rocce metamorfiche e granitoidi che provengono da bacini diversi per lo più europei all'interno della tetide diciamo che magari i dettagli li vedete meglio in immagine in questo ambiente che va a formarsi tra gli 8 e i 7 milioni di anni fa che è solo parzialmente continentale per il resto marino fu depositata 7 milioni e mezzo di anni fa una serie di rocce sedimentari da arenarie marne e argille questa serie di rocce è particolarmente evidente nel territorio di Cessaniti Cessaniti è una delle zone geologicamente più importanti della Calabria vi mostrerò tra un attimo delle immagini e naturalmente l'apertura dello stretto di Gibilterra con il conseguente diluvio di Accomarina stiamo parlando adesso di un tempo distante 5 milioni di anni fa portò al ripristino delle sedimentazioni di arenaria dei conglomerati dell'ergile del Pliocene con l'inizio del Quaternario l'ultima era geologica venne accelerato il sollevamento della Calabria che continua anche adesso in media con un millimetro all'anno il processo di sollevamento è complicato dal fatto che contemporaneamente avvennero periodi di freddo glaciale con abbassamento del livello del mare e livelli mentre nei periodi intergraciali si ebbe un aumento del livello del mare vado a farvi vedere uno schema geologico un po' sfocato dell'area di interesse vedete siamo quasi vicino a Briatico quindi siamo nella cosiddetta penisola del Monteporo dove è stato possibile individuare almeno dieci stazionamenti positivi del mare questi stazionamenti erano stati già ipotizzati alcuni anni prima naturalmente da geomorfologi francesi ma devo dire che erano stati un po' derisi i loro studi poco presi in considerazione ma poi in tempi più recenti questi studi sono stati alla luce di quanto è emerso sono stati naturalmente rivalutati mostro anche la sezione stratigrafica dell'area di cui ci stiamo occupando e vorrei aggiungere due cose su Cessaniti che è una località vicina molto molto importante anche se purtroppo una zona oggetta di continui scavi per la produzione di materiale da costruzione e Cessaniti permette appunto come leggete nella diapositiva di aprire una finestra su un ambiente costiero di 7 milioni di anni fa con fondali pieni di vita mari abitati da squali e dugonghi terre popolate da grandi marmiferi ormai scompasti tutto questo fa di Cessaniti un unicum e l'area è stata già studiata naturalmente nel corso a partire dall'800 fino a studi più recenti che arrivano al 2008 come vi dicevo prima l'area attualmente è in gran parte coltivata per l'estrazione di materiali norte cioè ci sono degli importanti cementifici che stanno un po' diciamo devastando il territorio per fortuna alcune di queste aree quelle dove compaiono maggiormente i fossili sono state un po' preservate vi faccio vedere qualche immagine salto questa parte ecco qua questa è la sequenza che caratterizza l'area di Cessaniti vedete che si parla di caramese dei posti di laguna spiagge e salve litorali a salire e questa la mutazione della linea di costa rispetto ad oggi in passato quindi con un notevole avanzamento del del mare naturalmente anche lì poi è registrata una crescita delle montagne di un millimetro all'anno ma non entro in questi dettagli ecco qua gli affioramenti fossiliferi nella zona di Cessaniti qua vedete tutte le pareti con gli ampi segni di di escavazioni di età contemporanea cioè sono ancora in corso purtroppo è un deposito veramente importante allora perdiamo soltanto pochi minuti su Zungri appunto è un Zungri è un contesto molto delicato si tratta di sabbie grossolane che caratterizzano tutto l'affioramento in cui sono state poi scavate le grotte tutte le cavità rupestri che abbiamo molto velocemente devo dire visto prima e diciamo che nel paesaggio attuale sono riconoscibili forme depositi cronologicamente differenti ma riconducibili alla casistica dei terrazzi marini o di transizione dove aree costiere emerse presentano resti di paliosuperfici ovvero di superfici sommitali suborizzontali o di superfici di erosione a bassa energia di rilievo sospese rispetto agli attuali livelli di base indicative di fasi di spianamento in particolare condizioni climatiche e tettoniche andiamo alle grotte di scusate ho saltato ecco un inquadramento della zona di Zungri con la carta geologica una foto aerea anche se con questa luce non si vede molto bene piccola la foto forse e andiamo alle grotte per concludere le grotte di Zungri sono state scavate nel complesso indicato dalla carta geologica come MS2 barra 3 ovvero sabbie grossolane come accennavamo prima brunocchiare fossilifere con locali intercalazioni arenacee sono state attribuite all'ottortoniano e gli affioramenti di arenare si caratterizzano per la morfologia pareti verticali o subverticali dovute alle buone caratteristiche geologiche o geomeccaniche e in grado di sostenere pendenze elevate e formare pareti o stacchi netti tra un pianuro e l'altro e naturalmente per i dettagli poi andremo a vederli meglio nel testo che si sarà consegnato vorrei per concludere soffermarmi su quell'aspetto a cui avevo accennato in apertura dove questi forti ruscellamenti che ci sono stati in questi soprattutto negli ultimi tre anni hanno scavato inciso fortemente la roccia ma hanno anche portato naturalmente all'interno delle cavità o lungo gli scoscendimenti enormi quantità di fango fango che è stato poi necessario ripulire e che ha toccato purtroppo anche i lavori di sistemazione più recenti perché sta nascendo un piccolo parco parco che non sappiamo se poi sarà destinato ad essere fluibile proprio perché tutte queste strutture proprio per la velocità del flusso di acqua che si genera ogni volta le piogge sono sempre più forti e sempre più intense durano pochissimo ma sono di intensità straordinaria quindi una situazione di così delicato equilibrio come quella di questo insediamento rupestre porta poi naturalmente a un susseguirsi di frane vedete questi questi distaccamenti di roccia all'interno sotto le passerelle i crolli delle pareti i distacchi di intere porzioni di roccia e addirittura vedete l'arrivo dell'acqua all'interno di tutti quegli ambienti quanto potrà vivere questo insediamento se i ritmi di frana di pioggia soprattutto continueranno ad essere questi quelli degli ultimi gli ultimi anni io penso che il decennio Zungri non riuscirà a superarlo anche il turismo vabbè questa è una mia visione naturalmente archeologica nel senso quello che io vedo continuamente come non ho potuto mostrare i dettagli ma ci sono sempre più lesioni e sono sempre più evidenti tant'è vero che tutto il costone in basso dove c'erano le sorgenti che vi ho mostrato prima è stato necessario chiuderlo è interdetto alle visite all'apertura al pubblico perché è franato si è staccato completamente quindi altri distacchi potrebbero essere imprevisi la distruzione dell'insediamento in dieci anni non significa che scompare l'insediamento del tutto ma chiaramente svanisce certamente quell'aspetto di luogo caratteristico e forse più rappresentativo di tutta la civiltà rupestre calabrese quindi c'è anche una certa responsabilità nell'abbandonare o nel trascurarlo o nel non inventarsi qualche procedura qualche provvedimento che possa se non altro prolungare l'esistenza spero di essere rimasto da tempo grazie vediamo se ci sono domande dal pubblico che età che età ci hanno queste strutture di giù l'età 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 delle strutture artificiali di giù sì allora la prima fase è quella bizantina con i silos l'attestazione più antica che abbiamo nei documenti nelle decine è del quattordicesimo secolo tra questo periodo il quattordicesimo e l'undicesimo non abbiamo indicazioni per stabilire se la fase abitativa sia stata avviata prima del basso medioevo è un'ipotesi ma non possiamo provare bene cosa per domande valutazioni aspettazioni posso fare una battuta io ho giocchito per essere prego una battuta su questa zona che conosco per motivi sismici essendoci stato il grande terremoto nel 1905 questa è una zona molto franosa notoriamente molto franosa quando c'è stato il terremoto nel 1905 questi comuni di quella zona per Cessanica e la costa sono andati giù in maniera disastrosa tant'è che il terremoto stava ritornando a essere un terremoto da un po' proprio perché tutti i danni sembravano concentrarsi poi si è capito dopo che c'era un effetto forte della pronosità del territorio l'epicentro è il colpo di Santa Femmia quindi non è lontano però c'era una forte amplificazione dovuta a questi fenomeni quindi in un certo senso questa è una caratteristica del territorio mi fa pensare che gli insediamenti i congei siano stati anche legati avranno il desiderio di insediarsi comunque in quella zona ma in condizioni più sicure che non costruendo perché sono più stabili quindi sì ho la sensazione che questa sia una possibile sì allora quel terremoto è stato proprio distruttivo c'è una documentazione fotografica incredibile anche dei segmenti di video che sono stati messi a disposizione dall'Istituto Luce proprio in tempi recentissimi per cui si vede proprio tutta la la potenza la forza del sisma e a questo si aggiunge però quella caratteristica geologica e al fatto anche che sopra l'insediamento l'abbiamo visto anche quei silos poi trasformati in abitazione che sono murati nell'apertura che ci sta in alto sono coperti da terreno perché a monte c'è un carico notevole comunque di terreno che è scivolato successivamente e che quindi in un certo senso appesantisce notevolmente il tutto e provoca genere delle spinte quindi è un insieme di più aspetti che rendono l'equilibrio di questo insediamento molto precario tutto questo per dire insomma che la geologia adesso tu non sei un geologo no appunto premesso la geologia è viva oggi siamo noi si sono la geologia è viva per sua natura quindi il fatto che i siti evolvano i siti come quello fa un po' parte del sì 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 cioè bisogna evitare che si dia fissista per cui tutto resta no 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 bloccare no però c'è anche un problema di sicurezza perché 25.000 persone che vistono un'area a rischio quindi bisogna fare poi delle scelte anche in quella direzione sono convinto che la geologia è viva anche l'archeologia insomma siamo abituati a città che scompaiono non ci sono più non ci stupiamo molto grazie e andiamo in bassinicato o meglio in Lucania come mi piace a dire e abbiamo l'isola che parla di carità tropiche nel sviluppo di piping sinkholes in ambito urbano ed aree di interesse culturale in bassinicato si sta caricando posso chiedervi di avvisarmi solo quando mancano 5 minuti se dovessi perdere di vista il tempo c'è un puntatore con le frecette Bene, buongiorno a tutti, voglio ringraziare Stefania Nisio, l'ISPRA e anche la Sigea per l'invito a partecipare non solo alla parte organizzativa ma anche intervenire in questo ricco programma di queste giornate tematiche che sono dedicate al rapporto tra geologia, storia e quindi anche l'utilizzo delle fonti come elemento fondamentale per la definizione anche di modelli geologici. La tematica scelta per la giornata odierna mi dà l'occasione di parlare di un argomento abbastanza molto sensibile sia per diversi risvolti, sia in ambito pianificatorio, sia in ambito vincolistico, sia soprattutto rispetto alla salvaguardia e alle possibili soluzioni per intervenire in casi in cui i borghi storico-rurali o centri storici sono fortemente esposti a fenomenologie morfevolutive di velocità variabile ma che in molti casi hanno determinato lo spopolamento anche attraverso l'applicazione di vincoli di trasferimento totale. Prima di passare al caso che ho scelto per discutere sia da un punto di vista di approccio metodologico sia delle possibili applicazioni risvolti vorrei fare una piccola premessa, non venti minuti. La premessa riguarda l'utilizzo dei dati storici. L'utilizzo dei dati storici è fondamentale ma quando si parla di dati storici a volte un po' i professionisti non solo i professionisti ma spesso anche nell'ambito della ricerca non sempre si conoscono bene quali siano le fonti da andare a ricercare per trovare le risposte alle nostre domande. Però diventano assolutamente fondamentali per arricchire il quadro conoscitivo, per definire un'evoluzione multitemporale di un fenomeno e soprattutto come questo ha interagito nelle diverse fasi insediative di un sito. Questo ci permette di fatto di costruire degli scenari, degli scenari di pericolosità variabile nel senso che gli scenari di pericolosità non sono soltanto quelli che attualmente possiamo ricostruire in base allo stato di fatto ma come gli scenari in realtà siano cambiati nel tempo in funzione anche della, come viene denominato in ambito urbanistico, dello urban sprawl, quindi dell'espansione urbanistica e quindi dell'aumento della vulnerabilità rispetto alle pericolosità naturali già esistenti. E' quindi fondamentale in ambito pianificatorio. Per fare questo chiaramente la ricerca impone un approccio e un lavoro di tipo multidisciplinare perché chiaramente ci sono formazioni di base che non sempre possono completare l'analisi di quello che noi stiamo leggendo soprattutto quando si lavora negli archivi. Allora, per quanto riguarda, fondamentalmente mi soffermerò su una delle fonti principali ovvero quelle reperibili negli archivi centrali dello Stato, gli archivi di Stato nelle altre regioni, archivi provinciali, archivi comunali, fino ad arrivare agli archivi diocesani o parrocchiali. Tutte queste costituiscono delle fonti fondamentali che raccolgono tutta una serie di dati e che testimoniano in forma indiretta ciò che è accaduto nel passato. Indiretta per noi, diretta per chi lo ha osservato. E' chiaro che è importante poter verificare anche l'autenticità e la vericità di queste fonti se poi diventano elementi vincolanti per ricostruire gli scenari, come vi farò vedere. E comunque, in ogni caso, va sempre filtrato il tipo di informazione rispetto al contesto storico dell'epoca in cui è stato praticamente registrato e chiaramente anche a una possibile visione che dei fatti poteva essere data o non data in quel periodo. Da cosa partiamo? Non so se l'hai fatto già vedere. Non ci siamo messi d'accordo, però parto da questo perché chiaramente è una sintesi di un lavoro che chiaramente è stato condotto, coordinato dall'ISPRA in tutta Italia e qui abbiamo Stefania Nisi che chiaramente ha la sua specifica competenza in questo settore dove vediamo grossomodo una rappresentazione di frequenza della distribuzione numerica dei sincola antropogenici e oggi parleremo di quelli antropogenici ma anche di quelli naturali e vediamo che in Basilicata, la Basilicata o Lucania, diciamo come Gianluca Nisi si ha voluto specificare giustamente, in realtà ha una densità abbastanza bassa di testimonianze. Fondamentalmente perché in generale, perché come Stefania mi potrà chiaramente in qualche modo supportare in questa considerazione, fondamentalmente vengono registrati lì dove c'è un'osservazione soprattutto in ambiti urbani. È difficile registrare fenomenologie a meno che non ci siano già fonti storiche o comunque determinate specifiche segnalazioni in ambito aperto, rurale. E da questo chiaramente è stata ricavata questa carta di densità dei sincola. Ora, lo studio che farò vedere in particolar modo è ubicato in quest'area qui, quindi non ci sono informazioni ma ce ne sono diverse altre in Basilicata. In realtà è una pecca, diciamo, nostra, non mia in maniera specifica però, diciamo, non trasmettere queste informazioni anche per, in qualche modo, aggiornare questo quadro. Allora, il caso di studio, che di fatto è lo spunto per parlare, diciamo, di un aspetto metodologico è quello del borgo storico della Rabatana di Tursi. La Rabatana di Tursi è questo piccolo nucleo posto su uno spartiacqua tra la valle del fiume Sinni, tra il bacino del Sinni e il bacino dell'Agri e il centro, diciamo, di Tursi nella parte storica è posizionato nella parte più a valle. Questo centro, insieme a tanti altri, sono stati oggetto di un decreto del Presidente della Giunta regionale in 72 quando, a seguito di un evento climatico molto importante, molti centri della Basilicata sono stati vincolati e soggetti al trasferimento totale o parziale. Il vincolo di trasferimento totale ha interessato questo borgo e la popolazione è stata poi trasferita nella parte a valle dove sono state costruite altre abitazioni. Ora, perché parto da questo e che potrebbe essere applicato anche in moltissimi altri casi? Perché a suo tempo l'applicazione del vincolo fu realizzata in funzione di che cosa? Della segnalazione dei trolli avvenuti lungo le parti perimetrali del borgo che, come avete visto, è caratterizzato da queste valli molto profonde. Queste tratteggiate sono le aree e le vie che sono state soggette, diciamo, interessate alle ordinanze di sgombro che, come vedete, interessano tutta l'area perimetrale e non certo il nucleo centrale. E allora che cosa fu fatto? Fu definito un unico perimetro, diciamo, per questioni di sicurezza ma che non furono mai accertati, per trasferire tutto il borgo e quindi sgombrare tutte le abitazioni. Ora, questo che cosa ha comportato? Ha comportato abbandono, trasferimento di tutte le attività artigianali, degrado di tutti i palazzi storici importantissimi che sono presenti in tutto il nucleo storico e quindi chiaramente un destino, diciamo, abbastanza triste per questo borgo, come per molti altri, quindi chiaramente relegato all'oblio e alla perdita della memoria storica perché questo è il nucleo fondante di tutto il centro urbano. Come vedete, facendo un passo indietro, ci sono degli elementi abbastanza strani, diciamo, da un punto di vista geomorfologico, perché a parità di geologia, a parità di lottologia, qui abbiamo una successione di circa 120 metri, si chiamano sabbie di tursi, sono delle sabbie variabili tra surface, quindi sabbie di spiaggia sommersa, fino a sabbie deltizie e di transizione nella parte alta, quindi omogenee. Non esiste una falda freatica e ci sono queste valli così profonde che a monte non hanno una testata, diciamo, non c'è un bacino idrografico che possa giustificare una canalizzazione di queste acque, tanto da determinare questo approfondimento così importante, con un salto di 120 metri, considerando che in tutte le situazioni a contorno, a parità di etologia, a parità di condizioni, non mostrano questi elementi. E quindi già questo è, diciamo, un elemento di riflessione. Allora, si è partiti dal rilevamento geomorfologico, sono stati rilevati tutti i fenomeni di distacco, gli accumuli e questo puntinato che abbiamo denominato come pipes e micropipes. E adesso vedremo a che cosa mi riferisco. Oltre a questo, queste freccette che cosa indicano? Indicano la ricostruzione delle linee di deflusso all'interno del centro storico, cioè le acque bianche dove vanno a finire. E quindi sono tutti elementi che poi porteranno a delle conclusioni. La cosa strana è che, considerando che tutte queste aree, tra l'altro, sono oggi classificate nel piano di ossetto idrogeologico come R4, quindi aree a franosità attive. La cosa strana è che non c'è il corpo di frana. Cioè, ci sono le nicchie di distacco segnate, ma noi abbiamo soltanto dei riempimenti nella parte bassa, non abbiamo depositi. Altra cosa curiosa. I rilevamenti hanno evidenziato che il sito è caratterizzato da tutta una serie di cavità fuori al centro urbano accatastate e da una serie di ingressi, di cui non si conosceva l'estensione, nella parte del centro urbano. Allora, abbiamo pensato, cerchiamo di capire qual è la reale condizione del sottosuolo per cercare di ricostruire il modello morfo-evolutivo che ha determinato eventualmente frane e che ha determinato a sua realtà il trasferimento. E allora, cominciamo a notare determinate cose. Allora, su queste pareti sono presenti, li ho chiamati come outlet, e nella parte alta del inlet. Che cosa sono questi elementi? Sono delle parti, diciamo, dove si registrano dei collassi per fenomeni di erosione, per percolazione, quindi per soffusione, e delle parti esterne che rilasciano, vedete qua c'è una collata di materiale, quindi erosione, collasso e fluidificazione delle sabbie. E questi li abbiamo mappati. Li abbiamo mappati, questa è una foto fatta con l'elicottero, perché non c'è modo di vedere bene le superfici, se non per via aerea, e ci sono tantissimi elementi di questo tipo. Alcuni di questi sono collocati in corrispondenza di edifici storici che avevano delle particolari caratteristiche. Faccio una premessa. Quelle superfici così profonde, nel mese, considerando che nei mesi estivi, di fatto non piove forse per due mesi, tre mesi, tutte quelle superfici, in alcune posizioni, erano sempre umide. Vi ho fatto la premessa e vi ho detto che non c'erano, non c'è falda, non ci sono corsi d'acqua, però erano sempre umide. E quindi chiaramente un altro elemento da verificare. Andando a vedere nel dettaglio, quindi, come vi dicevo, questi outlet, questi outlet, e in-bet, sono presenti, sono diffusi. Nel 2006, questa è una foto di Google, quindi la potete andare a verificare, compare un nuovo collasso. Compare un nuovo collasso che non era presente prima. Ma questo collasso, quindi ispezionato, verifica che c'è una parte, evidenzia che c'è una parte molto spessa di depositi antropici, su substrato sabbioso, il cui diaframma si è ridotto per tutta una serie di fenomeni di erosione sotterranea e che non ha retto più il peso del materiale sovrastante. Quindi è collassato e non c'era il materiale. Allora, tutto questo, cioè questo spessore, da 5 metri non c'era più il materiale. Il materiale era fluito praticamente nella scarpata sottostante. Questo invece è un caso nelle aree a monte dell'abitato, nella parte più a monte. Questi sono edifici vernacolari abbandonati perché si sono aperte delle voragini esattamente proprio nel centro degli edifici. Questa voragine qui, questo è un mio collega che l'ha ispezionata, si è aperta nella sala da pranzo di uno degli edifici. Quindi era chiuso, siamo entrati e abbiamo verificato con quei vigili urbani, si era aperta questa voragine nella sala da pranzo. E qui c'è l'uscita, praticamente, una delle grotte che dava su una di quelle scarpate che abbiamo visto inizialmente. Allora, il meccanismo che abbiamo ripostruito è sintetizzato, diciamo, in questo diagramma. Ci sono infiltrazioni, erosione, inlet outlet, erosione sotterranea, si riduce il diaframma delle sabbie in posto e il peso di tutto il materiale antropico utilizzato per terrazzare, diciamo, delle aree verso le scarpate con l'assa e produce, diciamo, queste situazioni che abbiamo visto. Questo è tutto il materiale antropico di risulta. L'analisi in archivio ha permesso anche di ricostruire, cioè di recuperare tutta una serie di foto storiche che evidenziavano come, in realtà, ai primi del Novecento, vedete, l'abitato è strutturato in una serie di gradonate. Ci sono tutti questi ingressi con case molto piccole, ma perché sul fronte interno di appoggio dell'edificio inizia il fronte di scavo. Quindi tutti questi ingressi avevano tutta una serie di ingressi e di penetrazioni all'interno della collina per ricavare quei volumi che naturalmente non erano disponibili. E c'erano dei passaggi su queste scarpate che adesso sono verticali e quindi sono rimasti praticamente tutte le aperture sospese. Dall'analisi di archivio, che in realtà qui sintetizzo soltanto in una parte, perché abbiamo dati dal 1600, di fatto che cosa abbiamo recuperato? Abbiamo recuperato, a seconda delle diverse fonti degli archivi di Stato e dei fondi del Genio Civile in tendenza ai Basilicati e quant'altro, tutte le descrizioni dei report, dei collassi che si sono verificati a seguito anche di eventi piovosi particolari. Quindi abbiamo messo in relazione serie storiche di piovosità con l'assi, frane, per definire quello che poteva essere il modello specifico. Alla fine abbiamo ricostruito una, diciamo, quelle che erano la distribuzione delle cavità all'interno del centro storico e adesso vi farò vedere anche utilizzando determinate metodologie e andando a individuare queste qui in giallo tutti i collassi che nel tempo si sono verificati non sul fronte ma nella parte interna. Nella parte interna per collasso dei diaframmi tra diversi livelli di approfondimento diciamo delle cavità secondo, diciamo, quei diversi fronti posti a quote diverse. Alcuni di questi alcuni di questi palazzi storici abbiamo verificato essere dotati di cisterne. Queste cisterne alcune ancora si vedevano altre erano completamente non conosciute dagli stessi abitanti. Una di queste aveva una profondità di 8 metri e una base di 50 metri. Allora abbiamo integrato gli analisi di archivio con le osservazioni sul campo con delle indagini di tipo geolettrico e con georadar. Georadar utilizzando due tipi di antenne la 200 e la 400 e abbiamo realizzato che cosa? Ho fatto la premessa in cui evidenziavo che sulle pareti rimaneva sempre una macchia umida sulle pareti questi 120 metri erano sempre bagnate pur non essendoci una falda e quindi uno dei problemi era capire come arrivasse quell'umidità. E allora che cosa abbiamo fatto? Siamo partiti dalla parte di monte dove c'è il rudere della torre del castello e questa è la parte di valle e abbiamo realizzato una serie di tomografie geolettriche in parallelo e queste tomografie geolettriche in parallelo che cosa hanno evidenziato? Hanno evidenziato che esiste un plum di fatto di conduttivo che va dalla parte di monte verso le parti di valle e quindi la parte di valle in realtà riceve questa umidità che non si trasmette con diciamo nel senso classico con una falda in movimento ma attraverso chiaramente una forma diciamo di capillarità diffusa e quindi nella parte di valle noi abbiamo queste grandi macchie che in realtà sono la destinazione diciamo di questo ma da dove partivano allora? Quest'acqua da dove proviene? Questi sono i risultati del georadar che ha intercettato tutte le volte anche delle cavità non ispezionabili qui le parabole le perbole sono molto evidenti quindi non c'era possibilità di sbagliare abbiamo potuto dimensionarle molto bene abbiamo anche preso in considerazione tutte le indagini pregresse che in passato erano state realizzate diciamo per verificare anche la stradigrafia e la reale effettiva assenza di falda per arrivare a uno scenario diciamo definitivo dove abbiamo vedete ci sono le grotte accatassate quelle ispezionate e queste sezioni rosse sono quelle intercettate dal georadar o dalla tomografia quindi abbiamo potuto calibrare lì dove avevamo ispezione e indagini georetiche e prendere come dire come riferimento lì dove avendo calibrato la risposta anche dove non era ispezionabile la presenza di cavità e questi invece sono tutti gli ingressi quindi questo è lo scenario generale come vi dicevo dalle ispezioni abbiamo verificato la presenza di queste cisterne cisterne molto grandi questa è quella che vi avevo detto e le abbiamo messe in relazione a che cosa? al deflusso superficiale originario legato alla morfologia del sito e ai deflussi delle acque bianche che sono queste frecce queste frecce blu inoltre abbiamo evidenziato abbiamo anche verificato che le acque queste acque provenivano ancora da un antico sistema di canalizzazione dai tetti che aveva le grondaglie murate quindi non erano a vista perché erano fatte con le tegole diciamo rovesciate incastrate quindi in realtà ci siamo trovati noi a gennaio diciamo con un ubifragio e abbiamo verificato in questa cisterna che aumentava il livello in maniera diciamo evidente quindi significa che le cisterne erano e sono ancora attive nonostante molte di queste non fossero conosciute e allora che cosa oltre a questo che cosa accade? l'acqua viene canalizzata è tutto impermeabilizzato per cui arriva con una certa violenza sui bordi non controllati diciamo di queste scarpate si rovescia a mo' di cascata e da una parte si rovesce e da una parte penetra in queste fessurazioni legate chiaramente a uno stato diciamo di uno stato fragile di queste sabbie che sono anche le fessure sono anche allargate da questi apparati radicali molto profondi di questa vegetazione per cui le fessure vengono allargate l'acqua penetra la sabbia viene fluidificata e si cominciano a distaccare diciamo delle fette diciamo di versante parallelamente c'è l'erosione sotterranea che agisce sulle volte diciamo delle cavità quindi che cosa abbiamo poi messo in relazione abbiamo messo in relazione l'aspetto morfologico la presenza di inlet outlet la presenza delle cisterne e abbiamo mappato lo stato di conservazione di degrado di ciascun edificio per verificare per ricostruire uno scenario in cui potevamo discriminare gli elementi più a rischio architettonici rispetto ad altri e quindi dare anche un indirizzo cioè questo scenario serve anche a dare un indirizzo di priorità di intervento alla fine il modello morfovolutivo è questo ci sono acque di infiltrazione legate alle precipitazioni che interagiscono con le cavità producono erosione per fluidificazione delle sabbie e collassi di alcune volte nella parte esterna le fessurazioni vengono allargate sia per l'apparato radicale sia per sempre i fenomeni di soffusione e si cominciano a distaccare praticamente questi aspetti queste parti di versante ci sono dei livelli tra l'altro tamponanti impermeabili all'interno delle sabbie che in qualche modo indirizzano l'acqua verso la parte esterna quindi le cisterne erano in parte fratturate rilasciavano acqua anche nella parte esterna più a questo si univa anche la precipitazione l'acqua filtrava intercettava il livello tamponante ed era indirizzata sulla parete per cui chiaramente le pareti risultavano sempre umide però da un punto di vista veramente geomeccanico agivano tutta una serie di elementi quindi tornando all'origine nel 1972 il decreto di vincolo di trasferimento totale si fermò all'effetto finale di un meccanismo molto più complesso e lì è rimasto ora l'amministrazione comunale come anche altre stanno cercando chiaramente di utilizzare la conoscenza che si è acquisita attraverso attività di ricerca per quantomeno recuperare parte del nucleo centrale svincolarlo e quindi restituirlo alla cittadinanza dare la possibilità di avviare attività produttive c'è un albergo hanno rifatto tutte le strutture idari ma questa diciamo situazione è una situazione che potrebbe essere riflessa in tantissime situazioni condizioni dove purtroppo la posizione di questi vincoli per l'urgenza non ha poi a questo non è seguito chiaramente un approfondimento il problema grosso di questa vincolistica è che solo un vincolo di pari livello gerarchico può annullare quello precedente cioè significa che solo il nuovo presidente della giunta regionale può emettere un decreto di questo tipo per annullare il vincolo a seguito chiaramente delle verifiche che prima poteva fare l'autorità di Pacino adesso è distretto l'Italia meridionale e quindi chiaramente con tutto quello che comporta anche in termini di spesa alla fine diciamo come chiudo l'ultima una delle diciamo delle altre applicazioni che si possono si possono ottenere dalla ricerca dei dati storici è per esempio nel caso in cui le schede di rilevamento dei dammi dell'80 ha permesso di ricostruire perché in uno scenario macrosismico applicato in questo sito questo scenario macrosismico è stato messo in relazione alla presenza delle cavità che sono state rilevate per cui anche la relazione tra possibile influenza o non influenza delle cavità sulla diciamo genesi del danno in quel tipo di scenario costituisce un ulteriore elemento di valutazione tra l'altro qui in regione Brasicata abbiamo fatto anche una simulazione proprio di con la protezione civile quando ci sono quelle giornate chiaramente dedicate alla simulazione di intervento in caso di calamità e quindi è stato scelto anche questo sito come sito diciamo di riferimento tutto questo può essere poi analizzato anche da un po' più avanzato con tecniche geostatistiche dove noi possiamo fare una densità della distribuzione del danno sismico metterlo in relazione alle cavità e quindi ricavare tutti quegli elementi che chiaramente possono essere utili per pianificare meglio interventi e chiaramente definire anche un piano di protezione civile adeguato questo è un piccolo esempio ma che può essere esploso e proiettabile metodologicamente in tantissimi altri casi vi ringrazio grazie molto interessante anche questa chiosa sui danni sismici voi sapete che quando c'è un terremoto i giornalisti non chiamano e vincano ma a Roma i terremoti non fanno danno perché sotto è tutto cavo ci sono domande questa prego allora una precisazione una precisazione sul censimento distra la prima mappa di cui hai fatto vedere quella con i bellini rossi è rifletta solamente ai colori di pulizia quindi noi abbiamo riportato solamente le voragini di prutenza e di materia cercando di limitarci all'interno del centro urbano la seconda mappa perché abbiamo due database differenti da una parte i simcoli antropogenici in particolar modo purtroppo sono davvero tanti quindi abbiamo iniziato dalle città a capoluogo a cominciare a raccogliere dati l'altra mappa è quella sui simcoli naturali che invece riguardano tutto il territorio quindi generalmente non sono concentrati in città poi siamo di fatto raccogliendo anche quella cioè i dati sui piccoli medicenti urbani però sono veramente moltissimi più andiamo avanti negli anni in cui ci rendiamo conto che se solo contiamo quelli della campagna cioè c'è quale conflitto solo per raccogliere i raggi della campagna quindi diventa difficile per noi raccogliere tutto però proprio Fursi siccome io sono molto attenta alle mie obbligazioni c'è ed è riportato diciamo in quest'altro c'è perché se mi ha live ricordo diciamo già sotto però diciamo l'abbiamo e quindi diciamo che lanciamo un messaggio noi stiamo cercando di raccogliere per dare proprio il punto della situazione su tutta Italia abbiamo bisogno ovviamente di giusto stiamo cercando di fare delle convenzioni con le regioni con le app però diventa complicato il nostro compito è far vedere come questo problema delle cavità e delle morabili sia comunque altrettanto importante come frane e come problemi altissimi problemi quindi dobbiamo cercare di raccogliere e abbiamo attivato anche sul sito segnala di stesso però ci arriva ancora molto poco quindi dobbiamo essere solo noi a doverci studiare ogni giorno fare delle valutazioni sulle biblioteche su tutto ciò che viene raccontato eccetera quindi quello che si riesce a fare diciamo nel nostro piccolo è comunque continuare a lanciare un messaggio e poi fare delle giornate per raccogliere anche i dati per avere proprio un rapporto stretto con i ricercatori che comunque sono nelle regioni insomma sul testuto ornale grazie grazie a te vale grazie allora passiamo alla penultima presentazione abbiamo Rassio Corucci Enrico Marotta e Pasquale Berdizio Marotta e Berdizio sono miei colleghi in Napoli Rassio Corucci invece è l'agenzia Romana titolo utilizzo dei veicoli di pilotaggio remoto quindi riferimento di monitoraggio di riempie naturali antropici il ritorno che si incolse antropogenici per il poligone dell'area Novana caratterizzati storicamente dalle estrazioni in vede campane e sopra per motivi edilizzi suppondo infrastrutturale di sviluppo no 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 sì 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 buongiorno sono Orazio Corucci grazie dell'invito volevo oggi parlare di queste nuove tecniche di rilevamento che è acceso il microfono è acceso si sente queste nuove tecniche di rilevamento che ci aiutano molto io vengo dal Nolano un'area caratterizzata da un'estrazione massiccia per quanto riguarda l'inglimprite campana sia in sotterraneo che più di recente con le tipologie di cava fossa quindi è molto molto come materiale della costruzione questo studio sperimentale ci è servito a tarare un ripeto è preliminare a tarare un modello che può aiutare geologi liberi professionisti le amministrazioni comunali gli enti di ricerca a coprire molte aree quindi aree molto vaste molto vaste con indagini molto precise soprattutto quando si tratta di inaccessibilità dei luoghi che per noi geologi è sempre un problema siamo appunto nell'area Nolana a nord-est del complesso vulcanico del Somma Vesuvio in un'area molto infrastrutturata caratterizzata da una serie di comuni tranne Nola che è quello che supera i 30.000 abitanti da un'area molto molto infrastrutturata ma fatta di tanti piccoli comuni generalmente inferiore ai 5.000 abitanti ci sono molte attività ci sono attività estrative della parte più meridionale dell'appenino dei Cacari ci sono infrastrutture di aree di collegamento principale ci sono svincoli autostradali ci sono strade di principale comunicazione per l'emergenza le vedremo dopo mi collego anche in chiave di protezione civile a quello che ha detto il nostro collega prima quindi siamo nell'area rovana che cosa abbiamo fatto abbiamo utilizzato questi questi velivoli in particolare un esacottero e un quadricottero dotati di che cosa di due telecamere una nello spettro del visibile l'altra nello spettro dell'infrarosso nell'infrarosso termico dopodiché i dati li abbiamo trattati con dei software specifici in particolare il PIXO 4D e Analyst 2019 e 2020 per quanto riguarda la gestione cartografica del dato e Thermagram FLIR per la gestione dei fotogrammi termici che cosa da che cosa si è partiti come ogni buon studioso del territorio le prime cose che ci sono servite sono le carte tecniche regionali scala una 5000 sovrapposte alle ortofoto e foto aeree che abbiamo potuto reperire anche datate abbiamo progettato la missione di volo perché questi velivoli necessitano di una missione di volo ben pianificata che tenga conto di ostacoli di altezze di volo particolari di determinate restrizioni se sono aree critiche aree non critiche sono stati definiti si è stata definita l'area campione e tutti i dati sono stati trattati e georeferenziati con punti di controllo a terra con gps differenziali perché i droni hanno il gps ma non è uno strumento di grossa precisione dopodiché sono stati eseguiti voli e dopo il volo c'è stata l'elaborazione del dato che ha portato a che cosa? ha portato a un modello digitale del terreno a un modello digitale delle superfici e ad un orto foto di precisione qui anticipo queste ci sono già delle evidenze che è poi l'argomento della giornata di oggi queste evidenze adesso le vediamo questa è la sovrapposizione cartografica storica allora quell'area di cui in premessa il Nolano è caratterizzata appunto dall'estrazione storica del ligno in brida campana in sotterraneo e più di recente dalla estrazione con tipologie di cave a fossa proprio in questo caso noi abbiamo avuto la fortuna di vedere quelle che sono le cavità come venivano strutturate e fatte e soprattutto l'entità di queste cavità in una cava a fossa del novecento molto recente penso che sia degli anni settanta dove per fortuna è stata una fortuna per noi geologi andare a vedere una situazione del genere l'escavazione in epoca recente è di tipologia a fossa perché loro individuavano delle strutture che adesso vediamo delle strutture che indicavano che in passato in un passato storico queste cavità queste aree venivano 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 sfruttate in sotterraneo per il reperimento dell'Ignimbrite Campana e si mettevano vicino che avevano capito che questi se sulle direttrici di questa evidenza c'è il tufo significa che noi ci possiamo mettere e avevano implementato l'estrazione in superficie con queste cave in forse una di queste in crocia proprio si sono fermate perché hanno trovato le cavità sepolte questi sono i tipici sincol antropogenesi che ogni tanto soprattutto in occasione di piogge particolarmente intense si compaiono nei terreni nei terreni in prossimità di arterie stradali in prossimità di luoghi densamente abitati in prossimità di strutture e infrastrutture qual è il contributo che queste tecniche di rilevamento può dare oggi all'individuazione di questi sincoli antropogenesi perché talvolta rimangono aperti solo contornati da un po' di elementi di protezione ma stanno così in mezzo a questi terreni senza alcun tipo di precauzione di messa in sicurezza l'individuazione in tempi rapidi permette di individuare questa instabilità e indirizza nel contempo le indagini geofisiche e geognostiche oggi che ci stiamo dirigendo verso quello che è lo studio con la microzonazione sismico soprattutto con la condizione limite dell'emergenza a cui tutti i comuni stanno oggi nel nostro paese aderendo in prospettiva di rischio sismico ma una cosa importante perché noi siamo tentati sempre ad escludere a trattare con molto distacco le aree che hanno dei problemi in realtà queste aree con questi problemi se si vanno ad essere investigate e trattate in un certo modo possono diventare anche importanti quindi non escuse dai affini urbanistici e infrastrutturali ecco ecco gli occhi i cosiddetti occhi di monte che sono queste strutture antropiche generalmente in tuffo anche loro che sono dei camini che ogni tanto si individuano nei terreni cortivati a noccioleto queste aree di noccioleto e eccoli qua questi camini che sono delle strutture verticali di collegamento con le cavità in sotterraneo che facevano talvolta questi vengono lasciati liberi talvolta venivano riempiti con lo stesso materiale di scarto dell'attività estrettiva e ogni tanto questi collassano e evidenze di questo tipo dove qui vediamo i comici di Avellino i paleosuoli e i livelli allusionali calcare quindi la successione è ben nota in questa parte per i geologi vediamo che ogni tanto compaiono queste ecco la messa in sicurezza di durare la voglia queste voragini in prossimità di questi camini che possono essere di due tipi sia legate all'attività al collasso di questi camini sia legati all'assottigliamento della volta della cavità e quindi a una diminuzione delle caratteristiche geomeccaniche in quella parte in quel particolare settore con collasso della volta e questi singoli sono particolarmente più di dimensioni maggiori rispetto a quelli che si mantengono nell'ambito della canna di accesso alla cavità queste sono molto più improvvise e molto più grandi veniamo all'argomento all'argomento la localizzazione dei singoli e degli occhi di monte attraverso i voli dei nostri droni che hanno ecco lì questo è un è un è un singoli eccolo qua in tridimensione questa è la stessa cava che vedevamo prima con le cavità in tridimensioni e i singoli vedete questi sono i singoli la cosa oh mi permette ho fatto una cosa che non dovevo fare ecco scusatemi ecco qua il singoli ne abbiamo mappati ne abbiamo trattati in ambiente GIS ad ognuno di loro corrisponde una foto una localizzazione la pendenza del suolo e una quota sul livello del mare dati interessanti per un database per un database dei dei singoli antropogenici e alcuni di loro abbiamo avuto anche l'opportunità chiaramente fino a dove questi strumenti potevano scendere di vedere le loro dimensioni e tridimensionalmente come erano fatti questo è uno dei primi elaborati cartografici nel quale ci dà attraverso il quale noi possiamo avere un'indicazione su quelli che sono i fattori che possono influenzare influenzare la l'innesco di questi di questi di questi di queste fenomenologie l'orografia l'altimetria vero la geologia eccetera eccetera ma soprattutto ma soprattutto quella che è l'andamento delle quote del terreno adesso vediamo vediamo il perché questa è una foto relativa all'anno 2015 di un di google noi andiamo su google mettiamo gli anni e ci facciamo uno screening di quello che può essere un territorio qui vediamo un sync che nell'anno probabilmente relativa all'anno 2014 in questo determinato settore noi su quell'area su queste aree abbiamo volato e oggi questa è l'ortofoto di dettaglio noi il sync non lo troviamo più non troviamo più le evidenze in superficie però ne troviamo altre troviamo delle aree che adesso vediamo in cui ci sono dei fenomeni incipienti cioè delle aree in prossimità della vecchia della vecchia della vecchia apertura modificate sotto l'assetto sotto l'assetto del territoriale in prossimità di questi di questi di questi di queste di queste aperture l'analisi cartografica di dettaglio attraverso le istituzioni dell'ortofoto ci dà la possibilità di vedere anche le aree depresse ossia queste aree in grado di poter rimbarcare acqua e quindi contribuire come fattore predisponente all'unnesco di nuovi sigola dove sono già presenti tra il centro e l'esterno ci stanno circa due metri di differenza ed è contornato da quote quote da quote diverse questa è l'ortofoto di prima con il modello tridimensionale del suolo come possiamo vedere laddove c'era l'apertura che noi avevamo individuato nell'anno 2015 abbiamo una quota in elevazione quindi è stato riempito le evidenze del riempimento ci sono laddove avevamo individuato nuovi elementi per l'innesco di nuove fenomenologie ci sono delle evidenze curiose con un'area depressa però quest'area depressa non è relativa non è relativa eccola in dettaglio non è relativa al contorno del del sincola ma si estende per circa 4 metri e 50 con un dislivello di circa 70 centimetri quindi questa parte è tutta in depressione in realtà si tratta di una rivisitazione di due del zonco che non è necessario lavorare con il sistema antico sotterraneo collegato a FOS che in realtà tra le parole restano e praticamente furono poi di nuovo li appropriati perché la regge barbina di 1970 dietò uso sotterraneo perché si trattava di una trave molto pericolose per le maestranze e poi chiaramente che ne si importi oggi e quindi alla fine quelle sono le uniche occhie di siglo che sono rimaste sulle tonde della trava una cosa simpatica perché quando io fotografavo la prima volta facevo vedere proprio le sezioni in un ambiente in cui il tuffo era anche molto affiorato perché lì nella zona di Tufino abbiamo delle delle versioni del tuffo circa 12 sì la cosa che mi interessa è che è interessante il problema della dinamica della subesidenza la subesidenza d'ausianza proprio nella subesidenza d'ausianza in azione come si intende sarebbe per la calibrata quindi questo ci chiederebbe anche rispetto di trattare l'amicitazione del senso dato veramente significativo come metodologia che è interessante certo una sperimentazione dal momento che noi abbiamo i sicuro già posizionati e tu hai sotto osservazione con l'unica perché non avvicinare anche le riformazioni con la tecnica interroelettrica sì il collega posso rispondere il collega Caccavale che è profondo conoscitore dell'area nolana mio compaesano ha puntato l'attenzione verso questo tipo di indagine infatti noi abbiamo intenzione di andare in questa direzione gli elementi attualmente sono pochi bisognerebbe vedere aree meno note di queste qua di queste qua soprattutto bisognerebbe vedere come è voluto l'assetto territoriale per parlare di ruolo del cedimento e che tipo di infatti io quando ho fatto vedere il cedimento ho detto un elemento in realtà è un elemento e va considerato tale e inquadrato in una problematica più vasta che va investigata sì lo faremo ed è questo uno degli obiettivi oggi di questi voli grazie grazie e di altre domande a miei colleghi che mi chiamano una volta sogniamo al piano di sopra i salisti un attimo un attimo di 20 minuti di 20 minuti vi darò un segnale la presentazione così chiama la presentazione un attimo buongiorno a tutti quando qualche mese fa Stefania mi aveva mandato appunto gentilmente l'invito a partecipare a questa stupenda giornata subito mi sono concentrato sulla tematica appunto cavità sotterranee nascoste o scomparse mi sono detto ma sotterraneo nascosti ma il sotterraneo già è nascosto praticamente intersecamente nascosto nella sua natura per cui chiaramente si intende un sotterraneo di cui non abbiamo assenza di informazioni ma che cosa si può intendere quando noi non abbiamo informazioni su un sotterraneo perché avere informazioni su un sotterraneo abbiamo visto si può avere il punto dell'ingresso su una planimetria si può avere l'estensione planimetrica appunto del sotterraneo si possono avere informazioni di carattere funzionale a che cosa serviva il sotterraneo per cui conoscere un sotterraneo avere informazioni del sotterraneo chiaramente diciamo può dire tutto e nulla e quindi diciamo che noi da qualche anno che ci occupiamo di sotterraneo questo problema ce l'abbiamo avuto anche in passato e questa diciamo necessità di informazione perché poi è importante dell'informazione la contestualizzazione dell'informazione non soltanto sul sotterraneo specifico abbiamo visto che oggi ogni intervento è come se fosse uno spicchio di una grandissima torta ma avere l'ominescenza del sotterraneo e diciamo sul territorio praticamente antropizzato chiaramente sarebbe il top quasi un'utopia e quindi oggi ho voluto portare questa presentazione relativa appunto a una scoperta che abbiamo fatto in parte in buona parte grazie alla contestualizzazione dell'informazione della conoscenza dei sotterranei appunto nella loro espressione generalizzata in realtà noi ci siamo trovati a Villa Adriana lavoriamo da circa 15 anni perché Villa Adriana appunto è la villa dell'imperatore costruita dall'imperatore Adriano nel secondo secolo dopo Cristo e ha una peculiarità che è praticamente ricchissima di sotterranei proprio perché l'imperatore amava non essere disturbato in superficie quindi tutti i sistemi di servizio immaginate che c'è una strada carrabile di circa un chilometro un'altra l'abbiamo scoperta noi c'è tutti i passaggi per gli schiavi ci sono fontane termi impianti termali insomma tra l'altro una ricchezza di diciamo di acqua assolutamente fuori dal normale e chiaramente su Villa Adriana bisognava addurre acqua e quindi ci siamo trovati nella certezza di sapere che esisteva un acquadotto ma non sapevamo dove stava tra l'altro questo è un problema annoso che hanno in passato archeologi come Nibi Asbi e ci hanno cercato di risolvere perché Villa Adriana vedete sta praticamente il complesso sta intorno ai 70 metri sul livello del mare gli acquedotti tra l'altro due acquedotti tra i più importanti il Marcio e il Claudio ma passano anche l'Agnonovus e l'Agnovetus diciamo all'altezza di Tivoli sulla via di Pomata stanno mediamente su 234 metri dice bella scoperta dice ma ecco avete gli acquedotti che stanno sopra il complesso Adrianeo è facile ipotizzare l'adduzione da lì ma voi immaginate che un salto di 150 metri non è così banale da superare da un punto di vista tecnologico vi dico che a 500 metri da Villa Adriana c'è la centrale Enel di Acquoria la prima centrale idroelettrica europea che proprio sfrutta un salto di circa 150 metri in quel caso delle acque della Niene però insomma per farvi capire quanto sia importante il dislivello e quindi la difficoltà nell'ipotizzare una fornitura diretta da questi acquedotti proprio perché in virtù di questo dislivello si è pensato alcuni studiosi ci sono pubblicazioni che pensano a un sifone rovescio insomma con delle pressioni chiaramente quasi quasi improponibili un amico una volta mi manda un'immagine una foto un amico che gira per posti curiosi della campagna romana e mi dice sto a San Vittorino San Vittorino praticamente si trova poco a sud qualche chilometro a sud di Villa Adriana vedete Villa Adriana sta lì gli acquedotti stanno lì e mi manda questa foto perché c'è una una cascata molto interessante molto bella poi tra l'altro vi invito ad andarla a visitare ci si può fare il bagno insomma una cosa molto molto particolare è una cascata artificiale antropica di epoca con una mola medievale sulla sulla destra e quando andai a visitarla però la mia tra virgolette malattia di attenzione sui sistemi archeologici mi fece notare praticamente la presenza di questa cisterna una cisterna chiaramente defunzionalizzata è stata tagliata da una strada da una strada moderna ma comunque conserva ancora i cordoli sugli angoli conserva l'opus signinum sulle pareti insomma si vede che è una struttura idraulica osservate sempre i metri sul livello del mare perché parlando chiaramente di un'adduzione idrica sapete che gli acquedotti antichi andavano a pelo libero ossia l'acqua si muoveva grazie alla forza di gravità quindi erano praticamente in pendenza e spostandoci appunto nell'area perché avere una cisterna per noi è come trovare un gelataio nel deserto abbiamo cominciato a cercare un pochino intorno perché lì la posizione è anomala stiamo praticamente a ridosso di un fossato praticamente non c'è apparentemente nulla per cui diciamo l'anomalia era evidente abbiamo trovato delle strutture abbiamo ipotizzato che potessero essere strutture termali perché anche in questo caso l'opus segnenum le rivesse quasi completamente quindi per la morfologia della struttura e per le caratteristiche strutturali abbiamo pensato che potrebbe essere un'opera termale ma poi andando avanti appunto nella ricerca nell'area abbiamo trovato addirittura un ninfeo guardate questo ninfeo ancora oggi non è conosciuto dalla sovrintendenza perché sta talmente nascosto nella vegetazione che è praticamente rimasto praticamente inosservato ed è un ninfeo che si affaccia praticamente sul dirubo quindi questo ci fa immaginare che stiamo di fronte a un grandissimo complesso antico tutto interrato ovviamente ma che era molto 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 vasto e anomalo quindi a quel punto abbiamo detto da questa parte abbiamo la collina l'unica emergenza di una fornitura idrica se esce esce sul fossato siamo andati a percorrere il fossato un pochino più a valle e abbiamo trovato finalmente il ponte o meglio il pilone di questo ponte con un bellissimo spego al suo interno in realtà veramente erano due specchi perché poi diciamo che nell'organizzazione della cura delle acque in genere sui ponti si faceva il doppio spego per evitare che in caso di manutenzione si facesse il fuori servizio quindi si vincolava l'acqua nello spego limitrofo e si faceva manutenzione in un uno piuttosto che nell'altro quindi diciamo che quando abbiamo trovato il ponte e il ponte col canale chiaramente abbiamo detto ma qui qualcosa non ci torna siamo andati in cartografia e praticamente abbiamo messo questi punti sulla mappatura e abbiamo visto Villa Adriana lì è il punto dove abbiamo le strutture trauriche che tra l'altro passa proprio esattamente sul paese di San Vittorino dove praticamente è un paese su un costone apparentemente privo di fornitura idrica perché praticamente sta su un costone tufaceo isolato e quindi l'ipotesi nostra è che sotto il palazzo baronale passi proprio lo spego dell'acquedotto e con un pozzo attingevano quindi comunque avendo messo questa linea diciamo di demarcazione abbiamo visto che curiosamente questa linea attraversava il ponte che sta sul fosso di Ponte Terra che storicamente è un'opera di epoca Adrianea per la struttura muraria e che storicamente è dibattuto tra gli archeologi perché alcuni dicono che sia solo pedonale come Zaccaria Mari altri dicono che invece aveva a che fare con il passaggio dell'acquedotto perché Villa Adriana orograficamente è più alta da questa parte dalla parte sud quindi se arrivava a un acquedotto concettualmente può arrivare soltanto dalla parte sud questo qui praticamente per noi è stato un'indicazione importantissima fondamentale perché come si dice due indicazioni fanno quasi una prova noi in questi anni e Stefania lo sa perché ne abbiamo parlato abbiamo lavorato tantissimo sullo sviluppo di un sito web che è una sorta di web GIS ha un'interfaccia chiaramente tradizionale per gli utilizzi organizzativi nostri ma la cosa interessante è che ha una sezione GIS dove praticamente abbiamo caricato ad oggi 13.000 elementi archeologici ci stiamo parlando di Roma e dintorni nella fattispecie qui abbiamo ad esempio le voragini abbiamo caricato tutto lo storico delle voragini dal 1920 fino ad oggi e purtroppo in questi mesi ci sta dando da fare perché ogni settimana dobbiamo continuare a caricare altre cose ma tutti questi elementi ed ecco l'importanza della contestualizzazione vivono ogni scheda per brevità non vi faccio vedere ma vivono di informazioni che sono informazioni storiche foto storiche all'interno della scheda pdf con relazioni già fatte in passato e anche documentazione che produciamo noi quando ci chiama la protezione civile la sorrintendenza o gli enti con i quali collaboriamo ad esempio in questo caso abbiamo fatto il laser scanner 3D e questa è una sezione del laser scanner dove si vede la sezione della strada qui stiamo ad esempio a via Gensano e c'è praticamente la cavità con la fognatura che ha innescato praticamente la produzione della voragine e il passo duomo che ci è servito per scendere all'interno quindi diciamo che è uno strumento dove noi ci appoggiamo tantissimo ma abbiamo anche altre tipologie cave e catacombe tra l'altro vedete sulla destra anche delle informazioni che ci permettono di filtrare lo strumento e le schede in base alle caratteristiche in base che siano ad esempio in opus reticolatum ipozi piuttosto che in laterizio la natura geologica dove si sviluppa il sotterraneo insomma sono tutte informazioni che possono essere filtrate nella versione siccome questo è uno strumento che noi utilizziamo anche per andare in ricerca sul territorio c'è la possibilità praticamente di filtrare in un'area specifica intorno a dove ci troviamo quindi noi camminiamo e mano a mano si accendono la presenza delle cavità piuttosto che quelle più lontane le teniamo spente anche per un fatto di economia informatica e ad esempio per parlare di acquedotti vedete c'è la possibilità di mettere la planimetria del percorso degli acquedotti e guardate che tutte quelle icone che vedete sono degli elementi che fanno parte degli acquedotti un lavoro enorme che è stato fatto nella nostra organizzazione è stato quello di prendere ad esempio il libro di Thomas Asby gli acquedotti di Roma per chi lo conosce praticamente è un diario di lavoro infinito dove la difficoltà è proprio collocare topograficamente di che cosa sta parlando lui magari parla del pozzo sul fossato di San Vittorino ma chi conosce dove sta quel pozzo eccetera eccetera noi abbiamo preso il ritaglio di quell'articolo e lo abbiamo contestualizzato sul pozzo quindi quando abbiamo quel pozzo abbiamo il nostro lavoro di documentazione abbiamo il lavoro dell'Asby abbiamo il lavoro dell'Anciano di tutti gli studiosi che parlano di quel pozzo quindi l'importanza della contestualizzazione dell'informazione messa su un modello unico su una struttura unica e chiaramente non poteva mancare anche le planimetrie che sono fondamentali qui ad esempio stiamo parlando della catacomba di Riscilla che si sviluppa sotto Villata la conosciamo tutti quanti e queste sono tutte quante diciamo informazioni vettoriali per cui sono scalabili e diciamo che non perdono dal punto di vista di qualità se si zoom sullo strumento o piuttosto magari in Caffarella sull'Appia Antica una cava di Tufo e Pozzolana e sovrapposta alla planimetria appunto di Google tra l'altro abbiamo fatto una collaborazione con Google per cui ci ha dato gratuitamente proprio per finanziarci questo progetto non ci fa pagare l'utilizzo delle mappe che normalmente farebbe pagare quindi diciamo che questo qui è quello che volevo darvi nella contestualizzazione dello strumento per quale motivo parlo del nostro strumento perché questo strumento è stato quello che poi ci ha permesso di mettere i puntini sulle I per la scoperta appunto dell'acquedotto a Trianeo perché ritornando praticamente sulle nostre strutture avevamo praticamente visto il Villa Triana le strutture idrauliche di San Vittorino e poi abbiamo preso il Pozzo Campus che è abbiamo dato il nome del proprietario del terreno e che praticamente per noi era un'anomalia pensate che quel pozzo io lo scoprimmo ci accompagnò questo campus e vent'anni fa e non riuscimmo a collocarlo dal punto di vista funzionale perché lì ci passano l'Agnovetus e l'Agnonovus ma erano conosciuti per cui questo pozzo stava per quota e per direzione andava verso Villa Triana non riuscivamo a contestualizzarlo allora l'idea è stata ma vuoi vedere che forse fa parte dell'acquedotto con le strutture idrauliche abbiamo acceso il nostro il nostro sito web e abbiamo cominciato a cercare tutte le strutture idrauliche che fossero comprese su una quota planimetrica utile praticamente all'ipotesi dell'acquedotto e abbiamo cominciato a trovare queste strutture qua troviamo delle strutture murarie di secondo secolo Zaccaria Mari le individua come un presunto recinto per noi un ponte perché stava proprio sull'asse e appunto dell'ipotetico passaggio dell'acquedotto altre strutture abbiamo trovato un manufatto che è non idraulico che è una strada di servizio abbiamo rindividuato l'antico tracciato che permetteva di andare a fare manutenzione ai ponti sapete che gli acquedotti romani avevano una strada di servizio che serviva appunto sia in fase di costruzione ma in fase manutentiva di fare manutenzione abbiamo trovato un pilone del ponte su un altro fossato qui chiaramente ci viene in aiuto l'orografia del luogo perché vedete che questa zona di Gallicano è caratterizzata da profili collinari intervallati da profonde forre e quindi chiaramente dove c'è la forra lì deve emergere qualcosa dell'acquedotto e quindi siamo andati a cercare lì la cosa interessante è che come normalmente avviene in contesto archeologico si trova prima l'elemento archeologico e poi si cerca di contestualizzarlo in questo caso abbiamo fatto esattamente l'opposto abbiamo contestualizzato la possibilità dell'acquedotto e poi siamo andati a cercare sul posto se trovavamo esattamente le strutture che cercavamo infine abbiamo trovato anche strutture che anche se non direttamente legate alla presenza dell'acquedotto vivevano però della presenza dell'acquedotto voi immaginate che se avesse avuto un terreno in limitro delle vicinanze del passaggio dell'acquedotto imperiale avreste magari costruito delle strutture termali con delle grandi cisterne per la raccolta dell'acqua e questo è quello che è avvenuto praticamente in questo territorio alla fine praticamente battendo anche il territorio perché chiaramente a quel punto gli elementi erano tantissimi e ci davano delle indicazioni abbiamo trovato anche lo spego il canale dell'acquedotto che è stato praticamente per noi diciamo la prova del 9 della presenza dell'acquedotto tra l'altro ha delle dimensioni ragguardevoli perché parliamo di circa 80 cm qui siamo sulla volta perché questo qui praticamente è tutto terreno di riempimento del limo che chiaramente si è essiccato e abbiamo fatto un piccolo saggio abbiamo misurato che è circa un metro e ottanta per cui diciamo che è un acquedotto molto molto importante e quindi diciamo che abbiamo ricondotto il passaggio dello spego dell'acquedotto che in questo caso probabilmente gira così chiaramente non va esattamente in rettilineo è uno studio che ancora sta in corso d'opera perché adesso stiamo praticamente sapendo che sotto passa l'acquedotto stiamo battendo dalla superficie tutti i pozzi per poteri perché poi immaginate che i pozzi sono stati decontestualizzati riempiti in alcuni casi addirittura in quest'area qui si chiama grotta dell'acqua abbiamo capito che grotta dell'acqua era si chiamava così perché passava l'acquedotto e nella sua defunzionalizzazione però lì ancora riusciva a portare acqua e quindi dal terreno usciva praticamente quest'acqua dall'acquedotto e ha dato praticamente il toponimo all'area proprio perché c'era l'acqua che usciva dall'acquedotto insomma questo per farvi capire quanto sia importante la contestualizzazione dell'informazione messa su uno strumento unico che non necessariamente deve essere il nostro questa è una cosa nostra e va bene però è importante catalizzare la conoscenza l'informazione sia che sia di natura geologica che sia di natura archeologica perché voi immaginate che se io fossi un ingegnere della CEA e devo far passare un nuovo impianto fognario nella zona del Quadraro come hanno fatto 40 anni fa oggi non lo farei perché sappiamo che ci sono tutte delle strutture sotterranee che sono appunto le cave che hanno dato origine alle grandi voragini di Columella solo via Genzano ha fatto spendere 2 milioni di euro chiaramente avere una conoscenza omnicomprensiva della situazione geologica del territorio mi permetterebbe di progettare la struttura sotterranea che sia un condotto fognario che sia un condotto di adduzione dell'acqua in un'altra area per evitare praticamente la presenza di cavità sotterranee avete visto prima le voragini quella della scheda delle voragini sulle voragini ad esempio ci sono 4-5 voragini che si ripetono periodicamente chiaramente nel periodo di monitoraggio che vi ricordo va dagli anni 20 fino ad oggi si ripropongono mediamente ogni 4-5 anni 10 anni chiaramente per quale motivo si ripropongono si ripropongono perché la causa non è stata eliminata quale può essere la causa la causa può essere la presenza di un impianto fognario che perde di un qualche cosa c'è sempre l'acqua di mezzo che veicola comunque l'apertura di una voragini in genere e chiaramente su uno strumento del genere si può addirittura fare prevenzione ossia se io vedo che quella scheda di voragini mi si ripresenta nello stesso punto nella stessa area per 4-5 volte in un arco temporale di 15 anni chiaramente posso prevenire l'apertura di una voragine nell'arco dei prossimi 5 anni poi chiaramente saranno pochissime le situazioni in cui io posso prevenire l'apertura di una voragine però qui stiamo parlando addirittura di azioni preventive cioè prima che si apre l'evento accidentale intervengo per evitare praticamente un qualche cosa del genere per cui diciamo che l'importanza è di questa cosa qui abbiamo appunto gli altri pozzi che stiamo studiando per cui ecco abbiamo diciamo poi abbiamo scoperto siamo andati avanti con la ricerca abbiamo scoperto che a Villa Adriana non arriva soltanto questo acquedotto ne abbiamo trovati ben altri due per cui diciamo la cosa è abbastanza complessa e barricata però ecco la cosa interessante è che diciamo che il segreto che hanno adottato i nostri antichi predecessori è stato quello di non andare a prendere l'acqua dove stava appunto a 150 metri di dislivello ma aspettare che gli acquedotti scendessero poco più avanti appunto verso Gallicano in questo caso per poi fare un altro condotto che tornasse indietro e alimentasse il complesso Adrianeo io ho cercato di fare una cosa molto leggera molto veloce visto l'orario visto che ero l'ultimo vi ringrazio comunque dell'attenzione non so se ci sono domande grazie di questa lezione estremamente affascinante grazie sono anche dal libro della notte più affascinante la notte e se ci sono domande passiamo sì la signora cosa ha già detto ma c'è che che consiglia che ci sono bilini che ci sono dei casi di caso c'è il sito e mi appagno una serie di beh chiaramente considera sì vai sul sito puoi vedere alcune cose è chiaro anche per un fatto di tutela dei siti che abbiamo abbiamo delle abilitazioni però la nostra filosofia è quella di condividere se c'è un discorso di collaborazione è quello di condividere tutte le informazioni che mettiamo anche perché la finalità dell'organizzazione che rappresento è quella proprio dello studio della conoscenza per la condivisione a livello scientifico ovviamente non c'è stato nessun problema assolutamente altro? non c'è altro passo però va prima Stefano dice per telecomunicazioni allora innanzitutto grazie a tutti che avete partecipato speriamo di aver preso anche questa mattina interessante e comunicazioni di servizio stiamo raccogliando i contributi dei lavori presentati sia in forma di comunicazione orale sia in forma di poster quindi per coloro che hanno presentato dei contributi c'è il tempo di oggi un mese quindi 22 febbraio per darci i contributi iscritti invece abbiamo raccolto quelli delle altre prime due giornate ne manca qualcuno quindi gli autori delle altre due giornate se ci possono inviare il contributo scritto come forma proprio per lasciare a tutti un documento di quello che si è detto e questi lavori verranno pubblicati sulle memorie descrittive della carta giolò di realtà e saranno disponibili sia cartacee che online e vi volevo ricordare che abbiamo anche altre tre giornate in programma che mi troverete il fisso la sinistra dell'opuscolo quindi stiamo raccogliendo ancora i contributi e per le prossime tre giornate la prossima sarà il pomazzo parlerò di terremoti e ancora dopo quella sulla cartografia e quindi i processi geomorfologici del territorio per concludere in bellezza con una nota artistica quindi a tutti voi gli teniamo contributi per chi ha qualcosa di interessante da dirci di mandarci anche semplicemente il filo del vostro lavoro in modo tale che possiamo preparare i programmi e ovviamente vi faccio andare che sono conveni a carattere nazionale quindi noi abbiamo cercato in queste giornate di far parlare tutta Italia perché si svolgono a Roma perché è un posto centrale però ovviamente abbiamo voluto rappresentare la Calabria come Sicilia la Basilicata e l'Italia quindi ci scuseranno poi i colleghi che ci mandano i lavori però ovviamente il tempo è poco e cerchiamo insomma di dare un punino lavoro a tutti e molestiamo che i lavori di tutti saranno accorti e saranno pubblicati sul nostro nome vi ringraziamo molto a nome dell'ISPRA del Comitato Organizzativo SIGEA e Società Geografica Italiana e vi chiediamo appunto di partecipare ancora alle nostre giornate grazie 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 grazie